Buongiorno a tutti quanti. Iniziamo stamattina con la sessione delle lauree triennali in disegno industriale. Stamattina abbiamo 13 studenti, li dividiamo in due sessioni, quindi poi vi chiederò la cortesia alla fine della discussione di lasciare velocemente l'aula, poi vi richiameremo per la proclamazione. Anche quella la splittiamo in due blocchi così da dare la possibilità ai parenti di stare anche più tranquilli. Non vi faccio raccomandazioni particolari, però facciamo attenzione a indossare le mascherine per evitare che i festeggiamenti poi siano funestati da casi di positività. La commissione stamattina è composta dal professor Bagnato, dalla professoressa Carullo che è la coordinatrice del corso di laurea, la professoressa di Roma, il professor Lovino, il professor Pietro Sante e il professor Domenico Pastore che è collegato a distanza per motivi di positività al Covid. Questa mattina in questo blocco presenteranno il loro lavoro di tesi un gruppo di ragazzi che ha lavorato con me e con il professor Pietro Sante su il palazzo dell'Acquedotto pugliese di Bari in via Cognetti. Il lavoro, lo introduco brevemente, poi lascio un attimo la parola al professor Pietro Sante, è un lavoro che è legato a una convenzione che con il Dipartimento abbiamo stipulato con l'Acquedotto per la promozione del patrimonio legato all'architettura ma soprattutto per quello che ci interessa oggi al patrimonio di beni mobili e al sistema decorativo dell'Acquedotto. Il lavoro dei ragazzi si è strutturato in maniera, diciamo, che hanno lavorato in maniera importante facendo una prima attività di ricerca e di raccolta di tutte le fonti indirette, tutta la bibliografia che sul palazzo dell'Acquedotto e sulla figura di Duilio Cambellotti che è il maestro decoratore che si è occupato della configurazione di tutti gli interni e degli arredi del palazzo è molto abbondante. Nonostante questo i ragazzi sono riusciti a fare una ricognizione bibliografica e a approfondire il livello di ricerca, di conoscenza scientifica e questo è il primo risultato importante della tesi facendo un lavoro mirato soprattutto sugli arredi mobili dell'Acquedotto. Lo vedremo oggi degli oggetti, dei mobili, degli arredi legati all'utilizzo soprattutto degli uffici del palazzo e poi vedremo loro si sono concentrati in maniera esemplificativa su una delle stanze che erano di incomodato al presidente dell'Acquedotto che fino a qualche anno fa una volta nominato risiedeva all'interno del palazzo e quindi aveva un appartamento con tutti gli arredi, tutti i mobili disegnati dallo stesso Cambellotti quindi anche di particolare pregio perché come sapete il ruolo del presidente dell'Acquedotto ancora oggi è un ruolo abbastanza importante. Quindi i ragazzi hanno fatto un lavoro sul campo di rilievo e di ridocumentazione di ridisegno di tutti questi arredi. In realtà l'Acquedotto non ha perfettamente contezza di tutti gli arredi che sono rimasti in dotazione dal momento in cui il palazzo è stato e quindi nonostante ci fosse già un vincolo della sorrintendenza generico sugli arredi loro hanno in qualche modo attraverso questo periodo di girocinio che hanno fatto in convenzione appunto tra il Politecnico e l'Acquedotto un lavoro di conoscenza, di quantificazione di questi arredi e poi in maniera, ripeto, esemplificativa hanno realizzato una schedatura più dettagliata di uno degli ambienti. Questi mobili hanno tutta una serie di questioni oltre al fatto che prima del nostro ingresso nell'Acquedotto non si sapeva neanche quantitativamente quante fossero i multipli cioè si sapeva, la sovrintendenza aveva schedato sedia, modello, da ufficio però non ci diceva il numero di queste sedie quindi potevano essere 4 o potevano essere 40 quindi questa cosa è avere oggi contezza di quanti oltre quali arredi sono presenti nella dotazione dell'Acquedotto è il primo risultato di questo lavoro che credo faccia anche il piacere all'Acquedotto pugliese. dopodiché, dopo questa quindi analisi storica delle documentazioni loro hanno fatto anche un lavoro sull'archivio dell'Acquedotto che è anche un lavoro che credo continuerà negli anni vista l'amore della dotazione di documenti dopodiché ognuno di loro ha fatto una riflessione su come valorizzare la dotazione del patrimonio degli arredi dell'Acquedotto e questo è un termine in cui il design probabilmente ci consente di dare delle soluzioni che forse sono più aderenti allo scopo rispetto a quello che magari finora ha fatto la semplice ricerca storica o ad esempio alcuni interventi di architetti quindi noi abbiamo immaginato ma forse l'ambizione è quella di spingersi un po' più avanti di proposto all'Acquedotto di finalizzare questo lavoro di valorizzazione di questo patrimonio con un progetto di musealizzazione di almeno una parte del palazzo certo l'ideale sarebbe che diventasse tutto un museo delocalizzando le funzioni tecniche che ancora oggi si svolgono lì fino a qualche anno fa si andava anche a contestare le bollette dell'acqua quindi immaginate che la dimensione patrimoniale fosse l'ultimo degli interessi dell'ente oggi devo dire che c'è una sensibilità diversa rispetto al patrimonio dell'Acquedotto anche, non vorrei prendermi troppi metri non solo rispetto al nostro lavoro ma forse il nostro lavoro ha anche contribuito a far sì che le istituzioni capissero fino in fondo il valore di quello che conservano e quindi la nostra proposta forse un po' diciamo anticipa questa tendenza e la nostra proposta ovviamente anche utopistica ma con un certo grado da parte soprattutto degli studenti di voler spingere l'istituzione a valorizzare al meglio questi lavori e dicevo il ruolo del design è particolarmente funzionale a questo noi abbiamo immaginato la potenzialità di musealizzare rendere quell'edificio un museo e nel far questo i ragazzi che sono a Battista Giulia Azzolini Monica Mariani Debora Molinini Emanuela Passarelli Maria Elena Pedaso Domenico e Turturro Samuele ognuno di loro ha lavorato in un'ottica globale ognuno di loro ha guardato uno dei possibili aspetti di questo lavoro di musealizzazione però ripeto dal punto di vista del design non è una proposta di museo non è un progetto di un allestimento ma è ognuno di loro poi lo dirà meglio forse il professor Pietro Sante ha proposto un approfondimento di un concept di progetto che analizza uno degli aspetti che potrebbero essere connaturati a un progetto integrato di musealizzazione io lascerei velocemente la parola al professor Pietro Sante che magari entra nel dettaglio di alcuni di questi concept vedete qui alcuni lavori sull'immagine coordinata di questo progetto di museo e poi lascerei direttamente ai ragazzi alle prime due ragazze che incominceranno a raccontarvi questa storia dividendo la parte di lavoro generale di gruppo dal contributo individuale che ognuno di loro ha dato grazie a tutti e lasciamo la parola prima a Pietro Sante e poi agli studenti grazie salve buongiorno a tutti innanzitutto come dire sono felice che siamo di nuovo tutti quanti qui in presenza con tutte le problematiche che conosciamo bene ma finalmente ci siamo ci siamo visti anche con i ragazzi in questi mesi sempre in maniera virtuale tranne qualche rara occasione quindi è sempre emozionante invece essere in presenza quindi stiamo attenti però cerchiamo di esserci perché il progetto è una attività di relazione questo lo diciamo sempre con i ragazzi lavorare in questo ambito significa entrare in contatto con delle realtà ma in contatto fisico cioè di colloquiare di essere pronti all'ascolto e essere pronti anche a dare delle risposte a delle esigenze quindi la presenza fisica è fondamentale fatto questo preambolo vorrei entrare un po' come diceva appunto il professor la balestra nel merito del lavoro che è stato fatto la tesi triennale diciamo finale dei ragazzi in qualche maniera può essere un primo passaggio per capire poi cosa loro faranno in futuro cioè quale aspetto del progetto del design intenderanno sviluppare magari attraverso una specialistica o anche semplicemente percorrendo un'attività professionale che va in quella direzione è per questa ragione che abbiamo chiesto a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo progetto di individuare quale fosse la loro aspirazione il mondo del progetto del design è molto ampio si può esprimere e declinare in centinaia di possibili esplicitazioni è bene che ognuno trovi qual è l'ambito che effettivamente come dire fa vibrare le corde della propria diciamo inclinazione progettuale abbiamo chiesto questo ai ragazzi e i ragazzi devo dire che hanno risposto positivamente ognuno di loro ha trovato un aspetto specifico del design che hanno ritenuto interessante per il loro stato diciamo di formazione ma anche per la loro attività futura di professionisti abbiamo poi chiesto loro di mettere tutto questo in un contesto di design dei sistemi cioè immaginare che ogni piccolo pezzo di ogni progettista facesse parte di un progetto più ampio che è quello che ha raccontato il professore della balestra relativo alla mutualizzazione di questo patrimonio la metodologia che abbiamo utilizzato è esattamente quella che viene utilizzata all'interno degli studi professionali cioè negli studi professionali ci sono varie competenze ogni diciamo designer si occupa di un aspetto ma tutti questi aspetti devono essere poi coordinati in un progetto come dire univoco corale e quindi devo dire con mia anche grande sorpresa ho visto dei risultati in alcuni casi sorprendenti anche in virtù ripeto della relazione piuttosto difficile online e anche dei tempi di tempi ristretti però tutti si sono attenuti a questo obiettivo cioè lavorare per un progetto comune che è proprio il diciamo il cuore dell'attività del design che è un'attività di che prevede la collaborazione di team il progetto di design prevede il dover fare una sintesi di diverse sensibilità non è un'attività artistica in cui ci si confronta con se stessi ci si confronta con un mondo molto ampio che è quello della produzione ad esempio o quello della comunicazione e ci si confronta con tanti collaboratori con tanti partner con i quali bisogna individuare una linea comune ecco credo che la grande soddisfazione di questo lavoro sia stato il fatto che i ragazzi siano riusciti proprio a esprimere questa modalità cioè ognuno ha trovato una propria specifica area di interesse di intervento tutto il progetto però ha uno stesso coordinamento gli elementi che sono stati individuati da un gruppo di lavoro sono stati poi utilizzati da un altro gruppo per esplicitare la loro attività penso che sia questo l'insegnamento più importante insomma che noi come diciamo come Politecnico possiamo dare ai ragazzi per introdurli nel mondo dell'attività lavorativa cioè insegnare loro che questa materia è una materia di relazione relazioni con i colleghi relazioni con il mondo relazioni con la contemporaneità io dico sempre ragazzi orecchie aperte e cuore grande questo è il modo di affrontare il tema del progetto penso che i ragazzi ci sono riusciti ma adesso lascio come dire a voi il giudizio sul lavoro che è stato svolto e ne approfitto per ringraziare chiaramente la commissione che è presente questa mattina e anche i ragazzi che hanno svolto questo magnifico lavoro grazie buongiorno a tutti sono la laurea Andazzolini Monica ringrazio i relatori professor Pietro Sante e la balestra e la commissione per la parola la nostra tesi il lavoro di tesi nasce da una convenzione tra il Politecnico di Bari e l'entra autonomo della Quedotto Pugliese ed ha come scopo la valorizzazione del patrimonio storico e artistico lo studio è partito da una profondita ricerca storica dell'ente fino all'analisi dell'architettura degli interni del palazzo il palazzo dell'acquedotto pugliese di Bari è stato progettato dall'ingegnere Cesare Vittorio Brunetti e riprende le linee dello stile romanico pugliese gli interni e gli arredi invece sono stati progettati da Duilio Cambellotti riprendendo il tema dell'acqua e il risultato è un'opera d'arte totale che è simbolo del valore artistico e sociale dell'acquedotto pugliese Già dalla fine del Settecento si iniziano ad individuare le cause di retratezza del Sud in particolare in Puglia la situazione descritta da Giuseppe Maria Galanti nella sua relazione sulle condizioni della Puglia è stata redatta nel 1791 per il governo di Ferdinando IV di Borbone e questa riporta le tragiche conseguenze del cambiamento del clima e della geologia del territorio le poche sorgenti d'acqua dolce rimaste in pocezia non erano sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'intera popolazione e spesso vi era anche una penuria di scorte d'acqua piovana di conseguenza le persone erano spesso costrette a bere acqua putrida e contaminata e i ceti più poveri della popolazione erano faccidiati da numerose malattie come il tifo la disenteria la malaria a colera a colera peste e vaiolo la discussione tra le autorità riguardante la questione delle acque in Puglia ebbe concretamente inizio a seguito delle riflessioni esposte dal deputato del Parlamento parteneopeo Raffaele Netti nel suo discorso pronunciato nel 1840 alla reale società economica nel 1847 ben sette anni dopo il re Ferdinando II nominò una commissione con l'incarico di studiare un metodo sperimentale per riportare l'acqua potabile in Puglia tuttavia la molle delle imprese e gli altissimi costi preventivati ben presto dissuosero il governo borbonico a proseguire con i progetti per la realizzazione dell'acqua edotto pugliese passo la parola alla mia collega buongiorno a tutti io sono la laureanda Maria Elena Passarelli e vi parlerò dei progetti preliminari e della edificazione della rete idrica dell'acqua d'otto pugliese in data 3 ottobre 1861 il consigliere Vito Nicola Ferri rappresentante di Canneto pose al consiglio provinciale di Bari il problema dell'acqua d'otto presentando una proposta riguardo le acque potabili effluenti nella provincia nella quale proponeva l'incalanamento delle acque dell'opanto la proposta fu tuttavia risultata dal consiglio che ritene che il progetto infattibile è a causa dei costi e della complessità dell'opera il 7 maggio 1877 l'ingegnere Angelo Filonardi presentò al prefetto della terra di Bari un progetto di massima per la condotta delle acque potabili nella provincia di Bari il documento intitolato sopra le acque potabili per la provincia di Bari appunto analizzava dapprima le condizioni del territorio pugliese e poi i modi in cui le poche riserve idriche potevano essere conservate e inoltre c'era anche uno studio della coreografia della regione la lunghezza complessiva del percorso ammontava a 412 km e la somma preventivata per il progetto era di 60 lire a km la proposta di Filonardi tuttavia non ebbe seguito ma l'ingegnere non fu comunque dissuato dal proporre nuove soluzioni e progetti per risolvere il problema della mancanza di acqua in Puglia altri due progetti significativi che abbiamo voluto ricordare nella nostra ricerca storica sono quelli presentati dall'architetto Giovanni Castelli il principale è quello del 1876 nel quale Castelli presentò una proposta nella quale si prevedeva di poter rifornire d'acqua i comuni del Barese posti a una quota non superiore a 270 metri sul livello del mare il progetto in linea di massima consentiva una fornitura di 44.000 metri cubi d'acqua al giorno al prezzo di 10 cm al metro cubo ed era riservata al solo uso domestico la spesa preventivata montava a 1.797.000 lire e l'approvvigionamento idrico era garantito per 420.000 utenti tuttavia il consiglio provinciale bocciò anche questo progetto come molti altri sempre perché ritenne l'opera infattibile e non sostenibile a livello economico un altro progetto preliminare presentato e mai realizzato per quanto sia stato probabilmente quello più significativo tra quelli proposti fu quello del 1887 dell'ingegner Francesco Zampari che è stato uno dei personaggi più significativi della storia dell'acquedotto pugliese infatti in data 2 dicembre 1886 Zampari pubblicò un progetto sommario di Acquedotto del Siele per le province di Foggia e di Bari il progetto conteneva anche una breve storia dei tipi di acquedotti muratura romani e medievali e uno studio sulle piogge in Fuglia il preventivo di spesa montava a 60 milioni di lire e diciamo in allegato al progetto vi era anche una dettagliata relazione esplicativa tuttavia a causa di numerose polemiche che seguirono il progetto Zampari questo non fu mai realizzato tuttavia si può comunque affermare che l'ingegnere e la sua proposta abbiano dato comunque una consistente spinta per la realizzazione della mastodontica opera che l'Acquedotto Pugliese fu essendo esso ancora oggi comunque uno dei più grandi d'Europa per quanto riguarda invece l'edificazione della rete idrica dopo una sequela di problematiche burocratiche e progetti respinti e comunque insistenti richieste da parte del popolo perché appunto le richieste andavano avanti come aveva detto la mia collega praticamente da 100 anni a questo punto nel gennaio 1889 Francesco Crispi l'allora presidente del Consiglio il quale riconosceva già da tempo la necessità della creazione dell'Acquedotto Pugliese firmò il decreto che concedeva il permesso di edificare la rete idrica dell'Acquedotto a partire dalle sorgenti del Sele e fu proprio il progetto Zampari quello diciamo su cui si basò questo decreto tuttavia però dato che il progetto fu respinto la proposta non ebbe seguito la questione si ripropose di nuovo nel 1901 quando il governo iniziò a dare ascolto alle numerose proteste che stavano avendo in quel periodo luogo nelle province di Foggia e Lecce dato che appunto il popolo non aveva acqua e le condizioni erano sempre più tragiche e quindi il governo stanziò un milione di lire poiché fossero effettuate ulteriori indagini sul territorio quindi finalmente nel giugno 1902 fu varata la legge che portò alla costituzione di un nuovo regio ufficio civile del genio civile che provvide a compilare il progetto di Massimo che fu portato a termine il 20 ottobre dello stesso anno e il progetto era firmato dall'ingegnere Michele Maglietta Giovanni Battista Bruno e Italo Maganzini il piano generale quindi per appunto l'edificazione della rete idrica dell'acquadotto pugliese prevedeva la costruzione di un canale in muratura che partendo da Caposele appunto uscisse nella valle dell'Ofanto e quindi diciamo potesse rifornire d'acqua i numerosi comuni che c'erano nella provincia di Bari nelle province di Bari Foggia e Lecce le aree interessate dall'opera di costruzione dell'acquadotto vennero quindi consegnate alla società anonima italiana Ercole Antico e Soci concessionaria dell'acquadotto pugliese in data 7 aprile 1906 ebbero quindi inizio i lavori alle sorgenti di Madonna della Sanità di Caposele per lo scavo della grande galleria dell'Appennino ed ebbero anche inizio le opere di captazione c'è da menzionare la questione il fatto che diciamo queste opere furono fortemente entrambe fortemente volute dal deputato ruvese Antonio Iatta ed egli stesso deliberò la costruzione del canale principale dell'acquadotto pugliese quindi dopo tante problematiche e tante proteste l'acqua finalmente zampillò nella città di Bari per la prima volta in data 24 aprile 1915 nella fontana ancora oggi presente in piazza Umberto I tuttavia gli eventi della prima guerra mondiale bloccarono il proseguimento dei lavori e si accumularono numerosi ritardi e debiti nello stesso anno tuttavia tramite un decreto del governo no scusate nel 1919 tramite un governo tramite un decreto del governo Reggio si istituì con sede a Bari un ente autonomo per la costruzione e manutenzione e esercizio dell'acquadotto pugliese che è l'ente che ancora oggi regola la distribuzione dell'acqua in Puglia Passo la parola alla mia collega Buongiorno Presidente a voi professori sono Giulia Battista e nel mio lavoro di tesi ho approfondito le origini di epoca fascista del palazzo dell'acquadotto pugliese dopo la guerra per evitare che una nazione vincitrice rimanesse in uno stato di erettratezza civile e sociale del piccolo borgo il risanamento della politica anche delle opere pubbliche era innecesalmente indeferibile l'arretrato infatti era enorme la questione meridionale era fermata principalmente da promesse parlamentari ed elettorali volte a realizzare opere pubbliche che puntualmente venivano smentite la rivoluzione fascista con l'avvento del governo nazional fascista nel 1921 e la marcia su Roma del 27 ottobre del 1922 segnò un rinnovamento in questo campo ponendo fine ai vecchi sistemi e tendenze e mettendo al centro l'interesse della nazione per non perdere tempo il fascismo aggiornò i vecchi programmi rendendoli attuabili instaurò nel ministero dei lavori pubblici un nuovo ordinamento accentrando le opere pubbliche del mezzogiorno sotto un'unica direzione provvista di mezzi finanziari speciali creò i provvedimenti delle opere pubbliche del mezzogiorno decentrando così l'attività statale e ponendo un'unica direzione provvista di mezzi finanziari speciali infatti furono stanziati nuovi fondi per diffondere la pratica irrigatoria delle terre aride rendendole in tal modo idonei alla cultura intensiva fino a raggiungere oltre il 60% della superficie territoriale fra tutti c'è l'importanza del comprensorio e del tavoriere si riordinò anche la legislazione sulle bonifiche la legge Burson Solini sulle bonifiche in tre grali del 24 dicembre del 28 assegnò un fondo di 7 miliardi suscitando l'ammirazione mondiale nel periodo prefascista i fondi investiti per l'attenuazione del paludismo furono cospicui ma non portarono adeguati benefici a causa del concetto di bonifica legato semplicemente alla soppressione del paludismo furono gettate le base del risorgimento agrario del mezzogiorno la Puglia rispose moltiplicando le iniziative per la costruzione di opere di irrigazione di strade e di acquedotti rurali tra le opere più importanti c'è l'iniziativa dell'ente dell'acquedotto pugliese preseduto a loro da Gaetano Postiglione egli istituì fin dal 1924 un ufficio irrigazione che intraprese e portò a termine diffici studi idrologici e dentavoliere di cui si occupò il ministro dei lavori pubblici Crolalanza l'ente dell'acquedotto pugliese costruì impianti per l'epurazione e l'utilizzazione delle acque di rifiuto pose a disposizione dei privati l'attrezzatura tecnica e ad amministrativa facilitando la progettazione così di impianti e di acquedotti rurali i lavori della costruzione del canale avrebbero portato l'acqua del Sele in Puglia attraversando tutto l'appellino campano e che hanno messo in moto un esercito di macchinari ed operai ed è una delle operazioni più complesse e rivoluzionari mai concepite nel mezzogiorno viene prestata grande attenzione anche allo sviluppo dei numerosi porti presente sul territorio che grazie alle culture intensive vedono aumentare esponenzionalmente i loro traffici fino a diventare una politica economica nazionale alla vasta opera di riscatto delle campagne fa riscontro un'altrettanta opera di bonifica dei centri abitati fu portata a termine un'opera ciclopica il progressivo estendersi dell'acquedotto pugliese accompagnato da più elevate conoscenze igieniche diede impulso al moltiplicarsi di iniziative per l'esecuzione di altre opere quali cimiteri ospedali altri acquedotti mercati bagni pubblici e scuole dalla geniale idea di bonifica si era messa in moto un'incredibile macchina che portò la Puglia ad essere esempio e modello per l'intera nazione e a realizzare un'opera imponente quale l'acquedotto pugliese il comune di Bari nel 25 affidò al giovane ingegnere Cesare Brunetti la progettazione del palazzo dell'acquedotto pugliese Cesare Vittorio Brunetti era un ingegnere di origine ravennate laureatosi pochi anni prima al Politecnico di Milano in ingegneria civile quello progettato con tanta fatica da Brunetti è un edificio che al coltempo è una testimonianza perenne della storica conquista dell'acqua per la comunità pugliese e per la prima volta sede di uffici direttivi amministrativi di laboratori tecnici e scientifici il progetto di massima della costruzione del palazzo dell'acquedotto di Bari che comportava un costo di 5 milioni i cui lavori furono affidati alla vita Provera-Carrassi di Roma preventivava l'esecuzione entro il febbraio del 29 la realtà esecutiva fu ben diversa si resero indispensabili la realizzazione di alcune perizie suppletive se in tutto a causa di alcuni problemi sorti in corso d'opera i lavori si conclusero nell'ottobre del 32 con un costo complessivo superiore a 7 milioni somma dovuta principalmente all'estetica sia interna che esterna il progetto definitivo infatti diede anche una nuova veste architettonica al palazzo per creare armonia tra interno e esterno si inseriscono in questo quadro anche gli interventi artistici del professore Duilio Cambellotti lo stile prescento si integra perfettamente con la tradizione locale che nel palazzo trova espressione anche nei materiali il monumento celebrativo che Brunetti ha immaginato ribadisce legame fra territorio beneficiato dall'acqua e la propaganda fascista si rimanda infatti allo stile del medioevo aulico quello dei castelli e delle cattedrali Brunetti si occupa anche della realizzazione dell'acquedotto pugliese di Foggia realizzato in uno stile Liberty nell'anno 1926 sempre Brunetti realizza a Santa Maria di Leuca la cascata monumentale che rappresenta il punto d'arrivo dell'acquedotto pugliese e fu proprio all'inaugurazione di essa che il duce preferì presenziare rifiutando inespettivamente l'invito che il presidente dell'acquedotto pugliese Postiglione gli aveva fatto nel 1932 forse perché non rispettava appieno il rigoroso stile fascista il nome e il lavoro di Brunetti rimarrà sempre legato ai monumenti dell'acqua grazie e passo la mia parola al mio collega Buongiorno a tutti sono il laureando Samuele Turturri e adesso vi illustrerò la vita e le opere di Cambellotti il designer del palazzo Duilio Cambellotti nasce a Roma il 10 maggio del 1876 suo padre era un valente intagliatore del legno e fin dalla gioventù inizia a lavorare nella sua bottega compiendo quello che sarà il suo apprendistato artistico nel 1893 si diploma come ragioniere e nello stesso anno si iscrive a corsi serali di decorazione applicata in pittura e disegno nel 1896 vince il concorso per le tramvie romane e progetta a Firenze un modello di pali di sostegno in legno che poi commissiona a Mariano Coppede che lo realizza in ghisa nel 1897 ottiene il diploma per l'insegnamento nelle scuole di arte applicata e inizia a realizzare manifesti, pubblicità marchi e oggetti d'arredo per varie aziende italiane e straniere collabora inoltre con vari periodici d'arte come Novissima definita la più raffinata ed elegante tra le pubblicazioni italiane dell'epoca l'Italia ride Fantasio l'Avanti della Domenica e il Tirso avvia con successo una produzione di vasi in bronzo con decorazioni di animali e stile estremamente personale ne presenta tre all'esposizione internazionale degli amatori e culture di belle arti di Roma tra il 1905 e il 1906 e sono vasi con conigli vaso con cerbe e vaso con tori nel 1906 disegna la copertina della rivista Rapiditas e la targa per il trottoio Florio incomincia a dedicarsi all'attività teatrale realizzando fra gli altri costumi e scene per il Giulio Cesare di Shakespeare si interfaccia con la rivista il divenire sociale sempre in questo periodo grazie alla collaborazione con il settimanale La Casa tra il 1908 e il 1910 aumenta il suo interesse per la progettazione di interni arredi ne disegna la copertina e i freggi interni e vi pubblica testi sull'architettura e l'arredamento per lui l'idea dell'abitare esegue i principi di Morris e Van de Velde un edificio dal suo interno al suo esterno viene progettato disegnando secondo criteri di unità e funzionalità forme possenti natura del legno a vista elementi classici ma inseriti in un insieme funzionale dallo stile più moderno e arredi collocati alle pareti piuttosto che nel centro degli ambienti tutto questo è il stile cambellotti per il cinquantenario dell'unità d'Italia nel 1911 con Marco Cecena progetta una grande capanna dell'agro che arreda con opere di Giacomo Balla ispirate alla campagna romana sposa Maria Capobianco e disegna per la casa nuziale un arredo in legno rosso fortemente venato di peach pine durante e dopo la guerra cambellotti si trova impegnato ad insegnare nei corsi di recupero somministrati ad ex combattenti e reduci mutilati in campo scultorio fra il 1918 e il 1920 cambellotti realizza alcune delle sue opere più importanti ispirate ai temi della campagna romana come il vannino il toro il buttero e la pace presentate all'esposizione internazionale di Torino nel 1919 queste sono alcune illustrazioni di questo periodo che appartengono al ciclo di xilografie di leggende romane aderisce al venticinquesimo della campagna romana con il soprannome di Torello che si impegna nella costruzione di edifici scolastici nelle campagne per promuovere l'educazione nell'agro romano negli anni venti riprende il ciclo delle leggende romane per le quali realizza un ciclo monimo di xilografie disegna illustrazioni per il volume usi e costumi della campagna romana di Ercole e Metalli nel 1925 partecipa alla seconda esposizione internazionale di arti decorative di Monza con mobili arazzi tappeti e ceramiche cambellotti ormai all'apice della sua fama dopo Monza avviene il suo distacco dal nord dove con l'avvento dell'industria l'attività artigianale inizia ad essere già soffocata cura a riedi e decorazioni per il palazzo dell'ente autonomo dell'acquadotto pugliese di Bari nel 1931 disegna le decorazioni murarie per l'istituto Eastman di Roma per il palazzo della prefettura di Ragusa e per il palazzo del governo di Latina muore a Roma all'età di 83 anni il 31 gennaio del 1960 la sua carriera può essere scandita in periodi un esordio art nouveau una seconda fase che viene spesso definita di incubazione di uno stile personale che coincide con il periodo di collaborazione con la rivista La Casa e un terzo periodo che segna il climax nelle mostre di arte decorativa a Monza affermando la sua attività di progettista di ambienti grazie per l'attenzione e passo la parola alla mia collega buongiorno sono la laureanda Emanuela Molinini e presento l'incarico di Giulio Cambellotti per il palazzo dell'acquadotto pugliese il 20 febbraio 1931 l'onorevole Gaetano Costiglione presidente dell'ente autonomo acquadotto pugliese inviò a Giulio Cambellotti una lettera nella quale porgeva una preghiera che consisteva nella richiesta di riduzione della cifra pretesa dell'artista per il suo intervento nella decorazione del palazzo da 143.000 lire a 120.000 lire la richiesta non fu completamente accolta ma il nuovo preventivo fu fissato per un costo maggiore 131.300 lire comprendendo più impegni rispetto al precedente l'accordo andò a buon fine e il 25 marzo 1931 fu siglato il contratto che affidava a Giulio Cambellotti i lavori per la decorazione degli ambienti dell'edificio destinato a nuova sede dell'ente in Bari l'impegno che l'artista assunse consisteva nel concepire immagini soggetti ed espressioni ornamentali riferendosi all'impresa dell'acquadotto di Puglia e ai suoi effetti e tradurre tutto ciò in modo che potesse risultare permanente sulle pareti a decorazione degli ambienti e al ricordo dell'impresa compiuta l'opera di Cambellotti quindi consisteva in una parte concettiva in una esecutiva e in una direttiva per le esecuzioni da affidare a maestri locali per ragioni pratiche per esempio lavori in pietra lavori in legno lavori metallici tinteggiature da parete tappezzerie per le quali l'artista era tenuto a fornire studi, disegni e vigilarne l'esecuzione gli ambienti da decorare erano sala del consiglio studio del presidente che si vede in basso nella slide e due salotti contigui al consiglio corridoio anticamera e salotto contiguo in alto camera del vicepresidente camera per il segretario generale direttore di esercizio direttore di ragioneria direttore delle costruzioni e salone dell'appartamento presidenziale con due salotti contigui oltre ad essi Duilio Cambellotti fu interpellato per pareri indicazioni riguardo l'atrio la scala e il bozzetto in scala 1 a 10 della fontana per il cortile i lavori comprendevano come si può osservare nelle foto riportate progetti di decorazione tele a tempera per le pareti studi e modelli per le pareti in pietra e in legno destinati a inquadrare i soggetti dipinti studi dei soffitti in riferimento alla disposizione delle luci studi per i pavimenti disegno dei mobili studi di sistemazioni cromatiche e assistenza e sorveglianza per il compimento dell'intera opera decorativa il termine stabilito per la conclusione dei lavori descritti era di sei mesi ma non fu rispettato in pochi ci volle più tempo quasi il triplo il risultato è una vera e propria opera di creatività progettata in ogni minimo particolare decorativo avente come un unico motivo dominante l'acqua il tema dominante di ogni creazione fu archi, canali, onde richiamo al liquido elemento sorgente universale di vita il riferimento è visibile nella scelta delle forme decorative dei soffitti pavimenti porte, maniglie dipinti, tavoli, sedi e molto altro le tre facciate del palazzo delle acque presentano 15 finestre 5 per ciascuna delle tre vie che delimitano la costruzione via Cognetti via Fiume e via Bozzi tutte a bifora tranne quella centrale della facciata principale che è a trifora sono decorate da archi che recano incisi 15 versi in latino riferiti all'acqua questi ultimi rappresentano una vera e propria prova letteraria della fantasia di Giulio Cambellotti che ha composto un ode all'acqua la scritta attraverso l'acqua parla in prima persona si trova sulla finestra centrale a trifora che sovrasta il portone di via Cognetti nell'immagine centrale ed è anche ripetuta nella sala del consiglio sulla tela tempera in alto la scritta è puros homines red homines vero patria che tradotta è come io rendo puri gli uomini così gli uomini rendono tale la terra natia grazie passo la parola alla mia collega buongiorno sono la laureanda Deborah Mariani e vi presento gli interni e gli arredi del palazzo dell'acqua e otto dunque Giulio Cambellotti con la progettazione degli interni e degli arredi del palazzo della Colotto Pugliese dà vita ad un vero e proprio monumento all'acqua un'opera d'arte totale in cui attraverso motivi geometrici linee superfici curvilinee e la giusta posizione di marmi diversi l'acqua trionfa e si appropria di tutti gli ambienti e lì progetta ogni elemento tutto con un unico tema dominante l'acqua che scorre tra le pareti le conici delle porte le maniglie i marmi dei pavimenti i tappeti e gli arredi ci si può imbattere nel tema dell'acqua già a partire dal pian terreno che presenta un cortile interno caratterizzato da una fontana in marmo che sembra un vero e proprio tronco d'albero con i rami recisi avvolta da capell venere e muschio e contornato alle tessere azzurre è poi importante menzionare un dettaglio che per quanto piccolo è necessario per comprendere la grandezza di Cambellotti infatti lei progetta anche gli ancoraggi degli otto pluveali presenti nel cortile questi sono a forma di biscia d'acqua un serpente che fungeva da depuratore naturale nelle cisterne in quanto si cibava delle impurità contenute nell'acqua inoltre le bisce al primo ancoraggio hanno quattro spie che diminuiscono andando verso l'alto per infine scomparire ed essere sostituiti da semplici decorazioni questo perché l'uomo difficilmente riesce a guardare ciò che è posizionato troppo in alto il tema dell'acqua travolge anche la scalinata per raggiungere il primo e il secondo piano sulla cima di ogni rampa è rappresentata un'anfora marmoria dalla quale sgorga un getto d'acqua che prosegue per tutte le scalinate un motivo geometrico che Cambellotti utilizza per sintetizzare il movimento dell'acqua in quanto lui non raffigura l'acqua ma ne riassume il movimento la fluidità l'impalpabilità è quello a zigzag che si incontra già dal primo piano nella prima sala ovvero la sala d'attesa poi si prosegue con altri due salotti e due studi i cui pavimenti e pareti sono dominati dal tema dell'acqua in quanto sono raffigurati i cavalli che si abbeverano e figure femminili che versano acqua da un'anfora apposta sulla testa un salottino in particolare è caratterizzato da un dipinto di una carta coreografica che raffigura la Puglia irrorata dall'acquedotto con immagini dell'arcangelo Michele di San Nicola Diari e di San Cataldo con la Nettuno e una figura femminile mentre versa acqua dalle anfore formando il bacino idrologico delle sorgenti del siele la sala che spicca maggiormente al primo piano in generale in tutto il palazzo è la sala del consiglio in quanto con le sue pareti affrescate i suoi arredi e sculture in marmo riassume tutte le peculiarità della progettazione di Cambellotti una delle scene descrive in primo piano giovani lavandaie che strizzano lunghi panni bianchi e a loro piedi ci sono dei bambini che bevono e giocano sotto le fontanelle mentre un tubo di ferro in un solco della terra rossa taglia a metà il paesaggio e raggiungono a ristesa gli olivi e una città bianca ovvero la Puglia sullo sfondo simboleggiando poi l'acquedotto che porta l'acqua in Puglia un'altra scena invece ritrae dei cavalli al pascolo che bevono acqua rappresentata sulle cornici delle porte sempre riprodotta con un motivo a zigzag importante per capire come tutto sia collegato e sullo sfondo è possibile osservare il ponte canale che caratterizza molte delle decorazioni dei mobili delle sale e Cassè del Monte il più noto monumento federiciano in Puglia sulle pareti delle stanze ci sono delle sculture in marmo due figure femminili che versano acqua da un'anfora e che hanno la funzione di costituire il sistema di illuminazione infine il centro della sala è scandito da un tavolo per le riunioni con intarsi al centro che propongono sintetica rappresentazione degli alberi di olivo di donne con anfore e di scorci prospettici di Bari le anfore lavoro femminile gli olivi i trulli i paesaggi della Puglia e i cavalli sono gli elementi figurativi ricorrenti all'interno del palazzo infatti li abbiamo visti riprodotti sia sulle pareti negli affreschi che nei marmi e nei pavimenti e negli intarsi in particolar modo i cavalli ancora più delle bisce del cortile sono simbolo di purezza in quanto bevono solo acqua pura e infatti sono raffigurati sempre mentre si abbeverano sottolineando dunque la salubrità dell'acqua proveniente dall'acqua otto pugliese inoltre Cambellotti raffigura solo figure femminili perché l'acqua rappresenta il femminile per eccellenza è profonda recettiva ed adattabile così come le anfore vissi come oggetto simbolo del femminile del contenere e del generale al secondo piano invece si trovava l'appartamento presidenziale ma tra il 1995 e il 2000 l'ente autonomo dell'acqua otto pugliese si è trasformato in una società per azioni retta da un amministratore unico e vani presidenziali sono diventati uffici solo 5 ambienti sono stati trasformati in galleria con il fine di esporre i mobili realizzati da Cambellotti la ex sala da ballo esibisce la maggior parte dei mobili contraddistinti da forme geometriche e superfici curve ed entarsi in legno e madre perla materia lucente e impalpabile che illustrano cerviatti ulivi figure femminili e anfore gli altri ambienti ovvero quello destinato ai bambini quello per gli ospiti e quello nuziale sono contraddistinti da un altro elemento la rondine uno dei soggetti che Cambellotti ama di più in quanto simbolo di buon augurio per una vita matrimoniale e rappresenta l'idea di fedeltà essere riprodotta sui lettini fuse in bronzo nelle maniere dei cassettoni degli armadi e del comò ed è incisa sui vetri che facevano la cornice alla porta d'ingresso alla stanza dei giochi dei bambini infine si incontra la stanza da letto del presidente che invece è più mastodontica è governata da linee ondulate che riprendono ancora la fluidità dell'acqua presenti in ogni elemento dell'arredo dalla testata del letto ai comodini sgapelli manigli e tappeto passo la parola alla mia collega ringrazio la collega per la parola sono il laureando Domenico Pedaso per quanto riguarda gli obiettivi del nostro lavoro si può dire che la ricerca all'interno degli archivi storici dell'acquedotto pugliese non ha portato al ritrovamento di alcun documento o progetto dell'epoca realizzato da Duilio Cambellotti e quindi all'impossibilità di tracciare e ordinare i più di 200 componenti d'arredo presenti all'interno del palazzo la mancanza di questi documenti ha dato l'idea di effettuare il rilievo e la schedatura dei mobili di Duilio Cambellotti a cui poi è seguito lo sviluppo di alcuni concept di progetto abbiamo quindi proceduto al rilievo di questi mobili e per le semplificazioni di questo lavoro che si può estendere al resto dei mobili del palazzo ci siamo occupati della camera del letto del presidente contenente dieci mobili il rilievo è consistito nella realizzazione in primo luogo di fotografie che ci hanno permesso di apprendere al meglio le forme e i materiali dei mobili in seguito si è passati attraverso l'utilizzo di strumenti di misurazione e rilievo quali metri squadre filo a piombo profilometro e altri oltre che a tecniche quali il frottage il ricalco al disegno prima attraverso schizzi e bozze e successivamente attraverso l'utilizzo dei software CAD al disegno digitale a termine di questo lavoro di rilievo sono stati realizzati i modelli 3D dei vari arredi e rendering 3D con l'utilizzo dei programmi quali Rinoceros e Keyshot si è poi passati alla schedatura costituita principalmente da 6 pagine che meglio mettono in mostra il lavoro illustrato precedentemente queste possono aumentare in base al numero di disegni e informazioni dell'arredo analizzato la schedatura è quindi quasi composta nella prima pagina sono inserite le foto dell'arredo e una mosca ovvero la pianta dell'ambiente dove viene evidenziato l'arredo preso in esame per comprenderne la collocazione all'interno della stanza c'è poi l'analisi delle caratteristiche più nello specifico definizione la quantità i materiali la tecnica le misure il peso stimato la conservazione e la collocazione la seconda pagina invece è dedicata agli schizzi preparatori utili per la realizzazione dell'ediotipo nella terza pagina sono presenti i disegni quotati in vista frontale laterale dall'alto e ipografia nella quarta pagina si trovano le sezioni longitudinali e una o più piante nei punti più significativi nella quinta pagina è riportata la sonometria isometrica e la sesta e ultima pagina invece presente il render dell'arredo è una breve descrizione di questo per quanto riguarda i concept di progetto dopo le prime operazioni di rilievo analisi e schedatura dei mobili realizzati da Duilio Cambellotti all'interno del palazzo si è passati ad un'analisi approfondita nel contesto in cui sono state individuate problematiche e potenzialità che costituiscono un punto di partenza dei nostri concept di progetto nonostante il palazzo sia una vera e propria opera d'arte totale il suo valore artistico ad oggi non è molto conosciuto infatti l'obiettivo dei progetti è la valorizzazione del palazzo e dei suoi interni attraverso l'istituzione di un museo di cui è stata progettata l'immagine coordinata che comprende una fonte apposita un marchio brochure manifesti catalogo il merchandising contenuto nel bookshop un sistema di wayfinding e un sito web lascio la parola alla mia collega sempre la laureana Maria Nidebora e vi presento invece adesso il mio concept di progetto quindi l'immagine coordinata e la fonte grazie alla convenzione con la Queotto Pugliese abbiamo rivolto la nostra attenzione al suo patrimonio artistico e al museo notando come questo non avendo una comunicazione forte e riconoscibile si è poco messo in risalto per tale ragione si è ritenuto opportuno sviluppare una strategia di comunicazione ideando un progetto di immagine coordinata in modo da valorizzarlo e di conseguenza valorizzare il territorio pugliese il primo passo è stato quindi quello di individuare gli elementi che rendono la comunicazione forte e unica il più trasversale tra questi è proprio la fonte Coca Cola Adidas e Youtube sono solo alcuni degli esempi lampanti di quanto la fonte sia fondamentale è impossibile leggere una banale parola nella fonte del logo della Coca Cola come in questo caso calcolo senza pensare alla bevanda in particolar modo in un rebranding di Youtube nel 2017 è stata realizzata una fonte specifica Youtube Sans e lo stesso per Adidas che utilizza una fonte proprietaria di nome Adi House e entrambe queste scelte sono state fatte per rafforzare l'identità del brand ed ha queste osservazioni che prende vita l'idea di realizzare una fonte appositamente per la Querotto Pugliese e per il suo museo con lo scopo di ricondurre adesso tutti i contesti cui viene adoperata per rendere una fonte identificativa questa deve avere una coerenza con quella che è la natura del brand per tale ragione se partiti dallo studio delle caratteristiche principali del tema dominante l'acqua presente in tutti gli arredi interni arredi del palazzo progettati da Cambellotti la sua grande capacità risiede nell'aver saputo progettare un palazzo dedicato all'acqua senza mai raffigurarla ma rappresentandola la sua essenza sintetizzando il suo movimento e fluidità pertanto l'obiettivo di questo progetto è stato quello di riportare l'intenzione e l'idea progettuale di Cambellotti nella fonte quindi quella di utilizzare linee sinuose curve leggere come sintesi dell'acqua in modo che questa fosse coerente con l'immagine del palazzo come riferimenti invece sono stati presi caratteri tipografici di tipo transizionale primo fra questi il Baskervin in quanto caratterizzati da forme più geometriche trasformati in una chiave più moderna ho iniziato studiando le seguenti variabili tipografiche in modo da dar vita ad una fonte con una personalità elegante che trasmetta l'idea di fluidità scorrevolezza ispirata quindi ai progetti di Cambellotti i glifi presentano un astuttigliamento della grazia superiore sinistra dato da una concavità con lo scopo di donare una leggera dinamicità e ricordare l'acqua che sgorga dalle anfore elemento ricorrente nelle decorazioni del palazzo le apici e gli spigoli sono arrotondati per una questione di coerenza con le grazie e conferiscono all'oglifo lo stesso effetto di acqua che influisce e non ha lieve dinamicità le terminazioni sono curve donando un leggero contrasto con le grazie andando ad ammorbidire il risultato finale regalandogli ancora una volta quell'idea di fluidità ogni innesto è ben raccordato andando a sottolineare con la sensazione di fluidità continuità e scorrevolezza che si vuole conferire alla fonte infine le aste orizzontali sono curvilinee morbide e sinuose e raccordate alle aste verticali perfettamente ottenendo come risultato un glifo che ricorda un corso d'acqua che si ridà di tramo infine presenta un'asse verticale grazie a inclinate di 7 gradi e un overshooting per uniformare otticamente le dimensioni l'altezza delle X è di 450 con un rapporto ascendente altezza delle X di 1,5 e riscendente altezza delle X di 0,5 dopo uno studio delle proporzioni forma e crea natura e varie prove in testi più brevi più lunghi di diverse grandezze pangrammi e negativo in scala di grigi apportando eventuali modifiche e accorgimenti per far sì che funzioni per ogni utilizzo il risultato è un carattere tipografico con grazie di tipo transizionale a medio-alto contrasto che comprende 177 glifi lettere maiuscole minuscole e numeri serie di punteggiatura e simboli legatura e lettere accentate infine per enfatizzare ulteriormente con l'impressione di dinamicità e continuità si è pensato di aggiungere alla polizza di caratteri delle legature discrezionali che differenziano le legature standard ad uno scopo prettamente decorativo oltre che per le coppie di caratteri più frequenti sono state realizzate anche per il monogramma a cupì sia maiuscolo che minuscolo e queste sono molto utili per i loghi o per rendere un titolo più decorato l'ultimo passo è stata la nomenclatura la scelta è ricaduta sull'infa in quanto termine estrapolato da uno dei quindici versi in latino incisi sulle facciate esterne del palazzo frutto anch'esse della fantasia di Cambellotti in particolare l'infa purissima ovvero acqua purissima per concludere è stato realizzato uno specimen in A5 per riassumere il lavoro fatto e avere sotto mano la font in modo da vederne i dettagli e come funzioni diversi usi passo la parola al mio collega adesso vi presenterò l'immagine coordinata il marchio e la tipografia realizzati da me e la mia collega Emanuela Molinini con il passere degli anni è avvenuta una profonda trasformazione che è coinvolto i musei in una progressiva apertura e attenzione verso le diverse tipologie di pubblico ciò è stato reso possibile dal graphic e il visual design che oggi sono in grado di intervenire in modo incisivo per rendere accessibile il messaggio sulla base di queste ricerche nasce l'idea di studiare un progetto di comunicazione visiva che si è tradotto nell'immagine coordinata che comprende progetti tipografici e il marchio che sono utili per l'identità del museo dell'acquedotto pugliese nell'ambito dell'immagine coordinata sono stati scelti come riferimenti i progetti di identità visiva del case museo di Milano del museo nazionale del cinema di Torino e del Philadelphia Museum of Art essi sono la dimostrazione di come il corretto sviluppo di un concept di graphic e visual design a partire dal logo fino a tutto il coordinato della comunicazione visiva possa avere delle ricadute misurabili sulla trasmissione del messaggio a un vostro pubblico di utenti e a contribuire a rafforzare il legame tra i cittadini che sono anche visitatori e il patrimonio culturale quindi siamo partiti da un'individuazione dei segni riconoscibili all'interno degli arredi di Cambellotti presente ovviamente nella sede di Bari per poi estrarre le figure geometriche in questo caso è stato preso in considerazione il motivo a zigzag che ricorre sui pavimenti sulle sedie e sugli intarsi e simboleggia lo scorrere dell'acqua la figura geometrica individuata è stata oggetto di un processo di astrazione che ha portato alla definizione di un segno riconoscibile ed immediato e si è potuta stabilire una precisa successione di operazioni quali l'individuazione del modulo il ricalco la rielaborazione geometrica secondo le giuste proporzioni e anche i bianchi e i neri la ripetizione del tratto grafico elaborato e così il risultato è stato un elemento sintetico identificativo del museo dell'acquaduto pugliese da inserire poi nelle declinazioni del progetto di comunicazione visiva grazie passo la parola alla mia collega si è pensato a un marchio identificativo del museo dell'acquaduto pugliese dopo vari tentativi è stato definito un marchio composto da un elemento visivo ossia un modulo estratto dalla greca ed elementi testuali ossia museo in basso e acquaduto pugliese a destra la fonte utilizzata per museo è Gunther Irregular mentre per acquaduto pugliese è linfa progettata appositamente oltre al nero per la scritta a destra è stato scelto un colore che rimandasse al territorio pugliese in questo caso il verde oliva il risultato quindi è stato un progetto di identità visiva per il museo dell'acquaduto pugliese con riferimenti al contesto culturale nella scelta del colore è stato studiato anche un progetto di comunicazione visiva che si esplica attraverso la tipografia la comunicazione grafica del museo dell'acquaduto pugliese include quindi applicazioni tipografiche manifesti brochure e catalogo per ognuno è stata creata un'impaginazione grafica base che contiene il motivo geometrico replicato in verticale o orizzontale all'interno del quale inserire una foto chiave del tema scelto spazi dedicati ad apparati fissi come il marchio del museo spazi dedicati a variabili come titoli descrizioni e informazioni l'elemento base che ricorre ossia la greca è stata arricchita da un apparato comunicativo in grado di raccontare meglio ossia la fotografia il risultato quindi è stato un progetto di comunicazione visiva tradotto in opere di design tipografico utili per l'identità del museo dell'acquedotto Pugliese questi sono i manifesti qui si possono vedere la brochure e qui il catalogo passo la parola io e il laureando Domenico Pedauso invece ci siamo occupati della realizzazione del bookshop del museo dell'acquedotto quindi a seguito dell'ideazione del museo si è ipotizzato una varietà di elementi come gadget e souvenir caratterizzanti appunto del museo che possono essere inseriti all'interno del bookshop in modo che i visitatori possano avere la possibilità di portare con sé un oggetto che richiami i tratti distintivi del museo dell'acquedotto Pugliese questi oggetti sono stati selezionati tramite un'accurata analisi di riferimenti e hanno per la maggior parte la caratteristica di essere frutto di joint venture con altre aziende che seguono la stessa linea di pensiero dell'ente autonoma a quedotto Pugliese l'ente infatti promuove con decisione da anni il messaggio del risparmio e dell'utilizzo cosciente delle risorse come ad esempio l'acqua perciò sono state scelte delle aziende collaboratrici che si distinguono non solo per l'alta qualità della loro produzione ma anche perché hanno come obiettivo l'essere aziende etiche e coscienti della loro impronta sociale e ambientale e inoltre diciamo oltre a questi oggetti e gadget per il museo si è pensato anche alla realizzazione di alcuni progetti con al centro il tema stesso dell'acqua la scelta dei riferimenti si è basata su una profondità ricerca riguardante gli oggetti presi nei bookshop di famosi musei identificandone gli elementi distintivi e caratterizzanti questo processo ha portato all'osservazione delle modalità di codifica che avviene nella maggior parte dei casi degli accessori venduti all'interno dei gift shop tale codificazione consiste o nel riutilizzare l'immagine coordinata del museo quindi che si parli di un logo di un glifo o di un motivo ricorrente che sia estremamente riconoscibile all'osservatore oppure nel riportare elementi significativi opere famose esposte nel museo stesso quindi risultano queste due maniere per contraddistinguere l'oggetto a tal punto da renderlo immediatamente riconducibile al bookshop del museo di provenienza perciò appunto abbiamo realizzato queste maniere di realizzare del merchandising e abbiamo proceduto con la realizzazione del nostro concept lascio la parola al mio collega a frutto quindi dell'analisi e lo studio dei riferimenti si è giunti alla considerazione di concept per l'elaborazione e la progettazione di oggetti che si potrebbero inserire nel bookshop del museo dell'acquedotto pugliese è stata quindi stilata una lista di papabili progetti i quali coinvolgono joint venture che vedono protagonisti l'acquedotto in collaborazione con delle aziende scelti appositamente per la loro etica e in alcuni casi per il loro contributo all'esaltazione e valorizzazione dell'artigianato nel territorio pugliese gran parte di questo lavoro è risultato sia dallo studio dei riferimenti ma anche del lavoro di tirocinio svolto nel palazzo dell'acquedotto pugliese la ragione di essere di questo progetto e dell'ideazione del museo e del suo bookshop sta nel riconoscere e nell'esaltare al meglio la grandezza sia dell'opera dell'acquedotto in sé ma anche nel valorizzare e nel far risaltare al meglio l'immenso patrimonio artistico che offre il palazzo dell'acquedotto e i suoi interni progettati da Duilio Cambellotti a seguito abbiamo inserito dei mockup di progetto quali delle tooth bag prodotte in collaborazione con Loki e Made in Carcere entrambe aziende etiche che utilizzano materiali riciclati essenze e profumi realizzati in collaborazione con l'azienda pugliese Acqua Puglia che riprendono i tipici profumi della regione utilizzando attivi naturali e vegetali con conservanti ecocompatibili e coloranti organici delle cartoline realizzate in collaborazione con la cartaria del Levante in carta riciclata che riportano appunto le illustrazioni e gli intarsi di Duilio Cambellotti la costruzione di riproduzioni fedeli e in scala reale dei mobili di Duilio Cambellotti progettati per il palazzo dell'acquedotto pugliese le riproduzioni in questo caso sarebbero realizzabili su richiesta la realizzazione di miniatura in scala dei mobili di Duilio Cambellotti presenti all'interno del palazzo dell'acquedotto pugliese di Bari i modellini sono costruiti dall'ebanisteria a Monte Cristo sfruttando la conoscenza e la maestria dei tradizionali ebanisti pugliesi si era pensato anche alla birra realizzata in collaborazione con il birrificio birra nuova di Trigianello utilizzando l'acqua del sele distribuita dall'acquedotto pugliese per creare una birra artigianale ispirata ai tipici sapori della Puglia inoltre delle piastrelle decorate con i disegni originali dell'intarsi presenti nel palazzo realizzate al mano nel laboratorio dei ceramisti di Terramare Ceramiche e infine un progetto di imbottigliamento delle acque del sele ipotizzando una collaborazione con Acqua Orsini per la realizzazione di bottiglie in vetro in virtù del risparmio nell'utilizzo di plastiche e altri materiali non che logicamente sostenibili inoltre abbiamo poi voluto realizzare attraverso l'utilizzo di una stampante 3D appunto le riproduzioni in scala dei modellini in scala 1 a 10 queste poi ovviamente andrebbero realizzate con il materiale del legno lascio quindi la parola alla mia collega io mi sono occupata del concept del way finding il palazzo dell'acquedotto pugliese che è un emblema di un concept moderno fa parte di quel patrimonio culturale storico artistico che sicuramente va fatto conoscere e apprezzare allo scopo è necessario una strategia comunicativa mirata che attualmente non è attuata a pieno infatti il palazzo dell'acquedotto pugliese è poco conosciuto addirittura dai baresi stessi e inoltre per visitarlo non è previsto un vero tour conoscitivo dello stile e delle opere e la presenza al suo interno di uffici operativi limita anche la possibilità di visita per favorire l'orientamento e la fruibilità degli spazi devono essere prima di tutto facilmente leggibili cioè dotati di una coerenza interna che rende facile capire come sono organizzati è importante anche che i vari elementi dello spazio siano facili da identificare per chi si muove nell'ambiente perché non sono le persone a doversi adattare agli spazi ma gli spazi a dover essere progettati intorno alle persone e il wayfinding può essere una possibile seduzione wayfinding letteralmente significa trovare la via sta ad indicare molto più che un semplice sistema di segnaletica il termine venne usato per la prima volta negli anni 60 dall'architetto americano kevin lynch nel suo libro l'immagine della città indaga su come le immagini ambientali influiscono sulla vita delle persone cambellotti ha posto al suo interno decorazioni sui mobili ed è una firma riconoscibile ovvero la forma dell'acqua rappresentato da linee geometriche serpengianti che rievacono nella mente appunto l'acqua che scorre e per dare l'immagine anche del suo passaggio ha richiamato anche arcate del ponte canale a roma elaborando una forma curvinile conseguenziale sono dunque partita dalla firma di cambellotti e attraverso la tecnica degli origami dopo varie sperimentazioni ho elaborato una forma definitiva quale segno riconoscibile da applicare al way finding del palazzo ho preceduto con una precisa successione di operazioni ovvero l'individuazione del modulo gli origami la rielaborazione geometrica e la ripetizione del tratto il way finding per guidare il turista parte dall'esterno del palazzo da punti strategici quali possono essere la stazione ferroviaria l'aeroporto il porto con il suo flusso turistico da crociera e le strade principali come per esempio via Sparano fino ad arrivare al palazzo questo si può realizzare attraverso dei core code posizionati per l'appunto in quei luoghi che una volta scansionati segnano la direzione sul portone di ingresso del palazzo si trova l'ultimo core code che apre percorsi guida per la conoscenza dei suoi interni e del suo museo per la visita al palazzo dell'acquedotto pugliese ho elaborato due percorsi differenti secondo un filologico che conduca la scomperta dell'intera opera di Pagcambellotti il percorso 1 rappresentato in blu prevede la visita al primo piano delle stanze di rappresentanza e al secondo piano delle stanze personali del presidente e della sua famiglia inizia oltrepassando il portone al piano terra sulla sinistra si incontra la stanza d'archivio sulla destra si incontrano le quattro stanze contenenti il museo proseguendo si arriva nel grande atrio al centro del quale si può ammirare la grande fontana simbolo dell'arrivo dell'acquedotto il percorso 2 in giallo interessa invece tutti gli uffici dislocati su entrambi i piani l'obiettivo è di migliorare l'esperienza di visita attraverso una segnalettica che permetta non soltanto di muoversi ma anche di interpretare i contenuti il metodo di indagine consiste in un processo di intersezione in quanto si mettono in una relazione due mondi segnalettica e musei cercandone i punti comuni la sfida sta nel determinare come gli strumenti della segnalettrica grafici e strategici possono essere applicati per soddisfare i bisogni e i valori degli spazi si prosegue quindi salendo dalla grande scalinata al piano nobile ovvero il primo piano quello della presidenza e della vicepresidenza inizia il percorso 2 attraverso tutti gli uffici che attraversa tutti gli uffici che si snodano lungo il perimetro contingui l'uno all'altro questo nuovo percorso porterebbe alla conoscenza di locali attualmente non visitabili poiché è sede di lavoro l'idea è quella di trasferire nella sede operativa in via Vittorio Emanuele e Orlando tutte le attività produttive per dare spazio alla visita turistica globale saliti al secondo piano il percorso 1 conduce ancora all'appartamento presidenziale composto da 5 ambienti che racchiudono le opere più belle realizzate da Duilo a Cambellotti proseguendo lungo il percorso 2 si possono visitare ulteriori uffici sempre disposti lungo il perimetro che originariamente componevano l'appartamento presidenziale il percorso di visita si può effettuare tramite l'utilizzo del cellulare per la scansione del QR code appunto oppure seguendo un percorso luminoso tracciato sul soffitto questa idea è innata da una ricerca nell'ambito del wayfinding riprendendo il sistema del Museum of Moving Image di New York puntando sul colore e sulla luce elementi che attraggono l'attenzione e l'interesse il MOMI ha sviluppato un percorso alternativo di visita ampiamente attreprezzato analogamente all'interno del palazzo due linee continue di LED una blu per il percorso 1 e una gialla per il percorso 2 conducono il visitatore alla scoperta alla scoperta anche nel percorso luminoso si riprende la forma dell'acqua di Cambellotti con un movimento ondulatorio il concept viene ripreso ulteriormente nei sign type che indicano la direzione da seguire e nell'indicazione del nome della stanza che vi si sta visitando nel caso della ridirezione la forma serpeggiante richiama il simbolo di una freccia nell'indicazione della stanza visitata invece richiama un elemento presente all'interno della stessa ad esempio se ci si trova nel salottino nel primo piano del primo piano il motivo riprende la forma dell'acqua in verticale tassellata sul pavimento oppure la camera da letto del presidente ricorda il movimento ondulatorio della testata del letto il presente studio si è prefissato un'alternativa alla tradizionale conoscenza turistica offrendo sistemi più immediati e moderni che possono permettere a qualunque tipologia di turista di approfondire la conoscenza del museo visitato posso la parola al mio collega sono sempre Turturro Samuele e questo invece è il mio concept ovvero l'immagine coordinata e il sito web nel discorso generale della gestione dell'immagine coordinata di un museo o di una mostra è stata tenuta necessaria la creazione di un sito web dedicato ad esso per fare ciò è stata fatta un'analisi delle attuali pagine web di alcuni famosi musei mettendo in evidenza tutti gli elementi costanti ed essenziali così è nato un sito dalla grafica che si costituisce in simbiosi agli altri fattori componenti l'immagine coordinata le greche i colori lo stile flat ma comunicativo e la scelta dei caratteri sono tutti macroscopicamente coerenti oddio che ho fatto il discorso portante su cui è stato creato questo concept è la società fast in cui viviamo specialmente a livello di comunicazione ciò che arriva prima all'attenzione del pubblico sono elementi semplici ad impatto più le parti sono complesse nelle forme e numerose più è facile che l'attenzione venga persa per questo lo stile piatto è minimale dell'interfaccia questo discorso anche grazie all'analisi fatta anteriormente viene applicato in tutta l'interfaccia del sito a partire dalla prima pagina questi sono i riferimenti che appunto sono il museo d'Orsay il Maxi di Roma e le gallerie dell'uffizio di Firenze la palette utilizzata nel sito diciamo presenta tre colori principalmente che sono tratti da elementi caratterizzanti l'acquedotto e quindi come potete vedere il blu è stato tratto dal marchio dell'ente dell'acquedotto pugliese il marroncino dalle venature del legno usato da Cambellotti nei suoi arredi e invece il verde come nel marchio dal verde oliva pugliese quindi arriviamo diciamo a descrivere la prima pagina che è la home nella home si è pensato di inserire al centro in sovraimpressione il bottone tickets che serve da link veloce per la pagina di prenotazione alla visita si pensa che le persone che visiteranno il sito saranno per la maggior parte lì perché interessate nella visita alla struttura e quindi risulterà molto comodo trovare questo bottone in prima pagina da riferimenti si è studiato inoltre che la home delle pagine web attualmente si è sempre quasi utilizzata come vetrina per eventi e mostre quindi si è ritenuto opportuno dedicarne una sezione interattiva ai manifesti pubblicitari dell'acquedotto che scorrono automaticamente inoltre è stato inserito un teaser in basso a destra in modo da catturare la curiosità del visitatore con quello che le aspetta nel museo gli altri elementi necessari che sono emersi dall'analisi sono stati sintetizzati nelle sottopagini alle quali si accede facilmente tramite la barra di intestazione in alto a destra in ordine dopo la home troviamo lo shop altra pagina comune nei musei moderni ma anche nei più vecchi dove sono esposti i gadget museali in collaborazione tra acquedotto e aziende pugliesi che avevano mostrato i miei amici precedentemente successivamente troviamo la pagina autovisit che si consulta per effettuare la prenotazione alla visita e nella quale si trovano informazioni geografiche su come raggiungere il palazzo e tramite codice QR e le indicazioni di wayfunding tramite il link sulla pagina dove appunto vengono aperte le cartine dei vari piani continuando si può consultare la storia del palazzo e la biografia del designer dell'interno di Cambellotti nella sezione history premendo invece su project si ha accesso alla libreria delle aree della stanza da letto del presidente i quali sono consultabili aprendo le corrispondenti schede tecniche infine l'ultima sezione about us consente di accedere a tutte le informazioni di contatto quali canali social indirizzi di sede numeri di telefono e diversi link utili in quest'ultima pagina possiamo visualizzare a schermo il sito grazie a tutti per l'attenzione e un ringraziamento speciale alla commissione ai relatori professor la balestra e Pietro Sante grazie a tutti grazie a tutti di quello che sono oggi va benissimo in realtà mi sembra che abbiano lavorato molto bene però adesso poi faremo le valutazioni spero che i genitori i parenti siano rimasti abbiano apprezzato il lavoro che per sei mesi gli studenti hanno fatto va bene io adesso vi chiederei la cortesia di lasciare il posto magari cinque minuti facciamo una pausa in modo da dare la possibilità di avvicendare e poi vi ricordo che per la proclamazione rifaremo la stessa procedura cioè richiameremo questa è la prima tranche dei ragazzi con i parenti poi anche lì velocemente vi chiederemo di lasciare festeggiare all'esterno per lasciare poi spazio ai successivi gruppi grazie mille e a frappone grazie a tutti 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 che ho inaugurato da qualche mese, che vuole lavorare su un tema che sta diventando di estrema attualità. Cioè come il patrimonio storico va valorizzato in relazione alle risorse d'archivio. Io spero che i ragazzi sapranno rendere interessanti le presentazioni, però è un tema molto tecnico, che apparentemente è estremamente concentrato sulla dimensione di ricerca storica che attiene alle fonti primarie, che è un lavoro per la ricerca scientifica fondamentale. Cioè quello di andare direttamente alle fonti primarie che parlano del patrimonio storico. Noi conosciamo grandi edifici, grandi aziende nel caso del design o grandi produzioni, però spesso la divulgazione non scientifica ci porta a interpretare questi edifici, questi temi, in maniera, dando per scontate alcune cose che non permettono di apprezzare fino in fondo il valore di questi beni culturali. Quindi questo laboratorio, che è nato da alcune ricerche che conduco da diversi anni, è da un mio expertise, che è quello di lavorare negli archivi. Il patrimonio e l'idea di far nascere questo laboratorio è perché nella regione Puglia molti archivi, anche pubblici, sono poco valorizzati, a partire da una difficoltà che attiene, come abbiamo visto le tesi prima, che hanno lavorato sull'archivo dell'Acquedotto Pugliese, gli archivi sono il riflesso di un periodo storico, che tende, proprio nel momento in cui magari l'utilizzo di alcuni di questi beni o di queste esperienze diventa meno presente. E succede che alcune di queste cose la memoria tende, per sua natura, a dissolversi. Quindi questo lavoro che i ragazzi oggi vi presenteranno, ognuno di questi lavori, poi mi soffermerò un attimo sulle specificità, vuole indagare come, attraverso le discipline del design, sia possibile oggi intervenire sui documenti di archivio in maniera funzionale alla valorizzazione di alcuni monumenti, alcuni, vedete, anche molto noti, di cui però si ignorano o sono poco note alcune vicende. Quindi questo lavoro, ripeto, molto tecnico inizialmente, passa per un primo, sono i primi risultati di questo laboratorio, che già in futuro prevede tutta una serie di collaborazioni con enti. Gran parte di questi lavori che vedremo oggi sono il frutto anche di un tirocino, di un lavoro anche in alcuni casi estenuante, che i ragazzi hanno condotto all'interno di archivi pubblici e privati, di cui in alcuni casi, ve lo diranno le prime ragazze che parleranno, neanche chi conserva quell'archivio sa bene che cosa ci sia dentro. E quindi questo lavoro è un lavoro preliminare a tutta una serie di ricerche che speriamo verranno riproposte negli anni successivi, e intanto avere contezza dei giacimenti archivistici presenti rispetto al tema di cui ci stiamo occupando. Prima di passare al merito di questo lavoro, vedete, il nome è un laboratorio istituzionalizzato, spero di riuscire a lavorare anche con una serie di finanziamenti di questo, è il nome in... abbiamo scelto con questo nome in inglese proprio perché ha la volontà questo laboratorio di veicolare la conoscenza di questi edifici, di questi monumenti, di questi casi di studio, si tratta anche di storia non solo legata a una disciplina, ma anche storia dal punto di vista umanistico, come vedremo sopra, è appunto questo termine in inglese con un logo che poi magari i primi ragazzi avranno la gentilezza di spiegare, che ci è stato donato da un noto studioso che ha molto già apprezzato questo lavoro di ricerca. I laureandi, ve li elenco nell'ordine, spero, con cui si avvicenderanno, sono De Cosmo Brunella e Carvutto Ilenia, che hanno fatto un lavoro, devo dire, anche abbastanza complicato perché si sono dovuti confrontare con una moltitudine di archivi cercando di, quasi come archeologi, di tirare fuori tutta una serie di documenti che riguardano l'esperienza della nascita e della costruzione della Fiera del Levante. La Fiera del Levante è un momento importante della storia della città di Bari legata alla parentesi del ventennio fascista e alla figura di Araldo di Crollalanza, noto politico che da podestà di Bari diventa poi ministro delle infrastrutture e in virtù di questo ruolo riesce a veicolare, fare atterrare, come si dice oggi, sulla città di Bari tutta una serie di investimenti che non riguardano solo le edilizie e l'architettura, ma anche la promozione di Bari dal punto di vista di centro di una serie di commerci anche con i paesi balcanici. E quindi la Fiera è un grande progetto che mira a far diventare Bari il centro di, diciamo, smistamento di una serie di relazioni, soprattutto commerciali, ma non solo, di tutto il Mediterraneo. Di questa esperienza gli archivi sono tantissimi, sono dispersi, l'archivio della Fiera del Levante è un'entità di cui non si capisce bene dove sta, chi ce l'ha, chi lo conserva, e poi c'è la figura di Araldo di Crollalanza, che poi è stato senatore per diversi anni della Repubblica Italiana, per cui una parte della documentazione relativa alla sua esperienza politica, ma non solo, è conservata a Roma, c'è una fondazione Crollalanza che conserva una serie di documenti, che però è conservata per una serie di questioni anche legate all'evoluzione del partito fascista nella Seconda e Terza Repubblica, quindi, e poi lo racconteranno bene le ragazze, è un lavoro che, devo dire, è interessante e che, in generale, diremo che il concept di progetto di tutte queste ricerche è stato finalizzato alla progettazione di una scheda grafica che, in qualche modo, riesca a contemplare, a rendere giustizia a tutta una serie di documenti, che non sono solo documenti relativi ad atti, a testi scritti, a relazioni, ma anche a progetti, come vedremo nel caso in cui ci occupiamo di architetture, ma, soprattutto nel caso della Fiera del Levante, anche a tutta una serie di documenti grafici legati alla comunicazione coordinata della Fiera del Levante, per cui lavorano importanti design, importanti grafici, con alcuni colleghi di Venezia stiamo pensando di portare avanti questo lavoro di ricerca sulla grafica della Fiera del Levante. Diciamo che questo studio germinale ci consente di schedare e poi vedremo iniziare a immaginare come raccogliere questi elementi di documenti di archivio estremamente eterogenei all'interno di un sistema di schedatura che, da un certo punto di vista, riprende tecnicamente le indicazioni della sovrintendenza, che ha una norma che ci dice come catalogare i documenti. Ma spesso i documenti che riguardano il design, la grafica, l'architettura, sono difficilmente utilizzabili, queste schede della sovrintendenza. E quindi noi abbiamo cercato, il concept, diciamo, comune, quello che vedete che la Commissione si sta passando, di immaginare innanzitutto un concept di catalogazione e di schedatura di questi documenti per loro natura eterogenei, che poi è eventualmente una possibilità di creare un archivio degli archivi, cioè in cui noi costruiamo un archivio virtuale ma anche fisico che consente di tenere disponibile all'interno del Politecnico Libari un archivio in cui sono archiviati non dei documenti, ma l'archivio stesso diventa un documento. E su questo tema, che è un tema nella comunità scientifica, soprattutto del design, io sono stato qualche mese fa a un convegno internazionale che si teneva in contemporanea in varie facoltà del mondo, dall'America all'India, perché questo è un tema con la digitalizzazione degli archivi, cioè i documenti fisici stanno perdendo la loro consistenza, a vantaggio di una possibilità di digitalizzare tutto questo, anche il PNRR mette a disposizione tutta una serie di fondi per la digitalizzazione degli archivi pubblici. Ma questo deve però passare per una contezza, noi dobbiamo sapere ogni singolo archivio che cosa contiene. Quindi il nostro progetto, Historical Heritage and Archivial Sources, riguarda proprio l'idea e la possibilità di costruire un archivio degli archivi che oggi i ragazzi che si avvicetteranno cercheranno, ognuno per il pezzettino di cui si è occupato, di farvi capire come concettualmente questo processo stia partendo. Dopo Carvutto e De Corzono prenderà la parola Miriam Lamacchia, che ha una tesi un po' diversa dalle altre, che intendevano concentrarsi su un periodo storico preciso, quello tra archivi compresi tra le due guerre mondiali. Invece Miriam mi ha chiesto di assecondare la contingenza del fatto che lei si trovasse per un periodo di tirocinio Erasmus all'estero, a Lisbona, e quindi abbiamo cercato di trasferire, ecco perché l'internazionalità del titolo e del progetto, questo metodo cercando di, immaginando di poter assimilare all'interno di questo archivio anche risorse di archivio che stanno in archivi decentrati rispetto alla Puglia, all'Italia e quindi anche all'estero. Quindi questo archivio avrà anche una sezione. In questo caso Miriam si è occupata di una vicenda per certi versi analoga a quella dell'esperienza della Fiera dell'Evante, che è quella della costruzione della città universitaria di Lisbona, che nasce in maniera analoga alla esperienza della città universitaria di Roma, progettata da uno dei più grandi architetti che lavora nel periodo del fascismo, che è Marcello Piacentini. Il progettista portoghese evidentemente, poi lo vedrete nel raffronto dei due progetti, conosceva il progetto di Piacentini. Piacentini stesso si reca a Lisbona, questo abbiamo ricostruito, dalle vicende archivistiche e bibliografiche che Miriam ha avuto la possibilità di approfondire recandosi in archivi e biblioteche a Lisbona nel suo periodo di tre mesi, sei mesi di permanenza a Lisbona. E quindi lei ci proporrà poi come concept, non voglio anticipare, però lo spiego in maniera più lasca possibile, in modo che poi non spoilerò niente, la possibilità di linkare le ricerche relative e gli archivi ormai noti che conservano la documentazione della città universitaria di Roma con quelli di Lisbona. In questo caso dobbiamo ringraziare la professoressa Madaluno, che so che ci segue, sta seguendo da Lisbona questa discussione stamattina. Lei sarebbe anche sentita per questo domenico? Allora, sì, poi cerchiamo di farla entrare, magari facendo dire due parole prima che Miriam si colleghi. e la professoressa Madaluno è una delle prime laureande della professoressa Carullo che è qui in facoltà, si è laureata qui a Bari e adesso è professoressa all'Università di Lisbona e quindi ci ha dato una mano indispensabile anche nel seguire sul posto la studentessa e quindi magari poi stiamo cercando di unire anche lei al team che consente di seguire da casa in modo che magari può intervenire. Su questo ovviamente un ruolo importante ha tutte le attività del Politecnico mirate all'internazionalizzazione e quindi anche alla possibilità dei nostri studenti di fare un'esperienza all'estero che credo sia oggi un'esperienza fondamentale anche per la costruzione del proprio curriculum. Seguirà Miriam Serena Vecchi che ha fatto un lavoro analogo a tutti gli altri concentrandosi però su un grosso giacimento di documenti che è relativo al progetto del Museo archeologico di Reggio Calabria anche questo progettato da Piacentini e quindi poi ve lo spiegherà con dovizia di particolari la laureanda. Ha fatto un lavoro interessante non solamente in relazione al museo che tra l'altro poi è stato in anni recenti adattato alle non efficienze da un noto studio di architetti contemporanei. Ma proprio perché quell'edificio ha un valore anche per noi che ci occupiamo di design fondamentale perché è il primo museo archeologico esplicitamente progettato per contenere una collezione di reperti archeologici. Come sapete gran parte dei musei, soprattutto quelli archeologici in Italia sono collocati all'interno di edifici storici. Cioè non mai o quasi mai edifici progettati in base alle esigenze della collezione. Quindi si tratta, se voi siete stati agli uffizi, altri musei, anche dei più importanti italiani, sono sempre adattati a un edificio che non è nato quasi mai per essere un museo con tutta una serie di difficoltà. In questo caso è di estrema importanza questo progetto proprio perché nasce al contrario, cioè tutti gli altri nascono al contrario. Questo museo nasce da una collezione di reperti scavati non solo in Calabria ma in tutto il sud Italia e quindi in base alla dotazione di questo museo è stato progettato uno spazio ed è rimasto un caso esemplare rispetto alla tipologia dei musei archeologici e non solo. Ma di questo museo non esiste una pubblicazione esaudiente. Se ne parla in maniera molto liminare rispetto alla figura di Piacentini che è uno degli architetti più importanti del nostro paese durante l'esperienza del fascismo ma mai nessuno ha studiato sistematicamente questo museo a partire dalla difficoltà di appunto consultare questi documenti. Ecco, la tesi di Vecchi colma questa laguna. Lei ha fatto un'esperienza di tirocino all'interno del museo trovando, adesso lui ce lo dirà, ma se ricordo bene, oltre 200 documenti. Che testimoni? Qua scusa, non volevo toglierne. Oltre 400 documenti che lei ha catalogato, schedato, che oggi grazie al suo lavoro consentirebbero di finalmente rendere giustizia all'importanza di questo progetto. Spero che poi qualcuno se ne occupi, ma se lo può fare è perché il design e nel caso specifico la nostra laureanda ha reso consultabili, anche divulgabili semplicemente, questi documenti. Galasso Nicola è il penultimo laureando, anche lui, devo dire, con una serie di difficoltà perché ci siamo avventurati su un tema, secondo me, molto interessante che andrebbe studiato. Quello di valorizzare il patrimonio delle città di provincia, di piccoli centri, rispetto all'idea che, appunto, durante il fascismo, c'è di realizzare tutta una serie di edifici che, in qualche modo, servono alla propaganda fascista. In questo caso particolare, Galasso si è occupato del progetto delle case del fascio dei centri minori, che è un progetto che, a livello nazionale, viene attribuito a un architetto romano, Iacobucci, di cui è stata donata una parte dell'archivio personale all'archivio centrale di Stato di Roma, una parte a alcuni comuni dell'entroterra romano, ma anche qui non esiste un indice completo di come questi documenti sono dispersi. Iacobucci si occupa, viene incaricato dal Partito Nazionale Fascista, di progettare, di fare una cosa di una modernità estremamente importante, di progettare un prototipo di case del fascio per centri abitati sotto i 10.000 abitanti. E quindi, al di là delle grandi esperienze nelle città capoluogo, nelle province, anche a Bari, a Foggia, a Taranto, abbiamo degli esempi di noti architetti che progettono una casa del fascio. Nei piccoli centri il Partito Fascista immagina di dare un progetto già pronto, che poi ogni sede del partito locale poteva finanziare e costruire. E quindi Iacobucci fa questa consulenza per il Partito Fascista e poi viene incaricato di progettare una serie di case nei piccoli centri. Noi abbiamo quindi anche un'esperienza importante, che noi abbiamo casualmente scoperto, che riguarda anche un comune della provincia di Taranto. E quindi il lavoro di Galasso si è concentrato, trovando un giacimento di documenti all'interno dell'archivio centrale di Stato di Roma relativi al progetto della casa del fascio di Palagianello, un piccolo comune nella provincia di Taranto, con cui stiamo attivando una convenzione sempre per valorizzare gli archivi del comune, che oggi sono impraticabili, di cui è anche la difficoltà del laureando di trovare. Ha trovato più documenti a Roma che sul posto, nonostante abbiamo contezza che ci siano. E quindi ha cercato di ricostruire questo progetto mai realizzato. Quindi è una difficoltà ancora maggiore. In conto è valorizzare poi un edificio che ha visto la luce. Un edificio che non è stato poi realizzato per le contingenze della guerra mondiale, che quindi ha interrotto il programma architettonico del fascismo, rimane nell'archivio. Almeno che qualcuno se ne occupi e renda giustizia a quella esperienza. E per concludere, Giorgia Dentamaro, poi adesso l'ordine magari cambierà, quindi però ricordiamo i nomi rispetto, si è invece occupata di un edificio realizzato a Bari, dopo la seconda guerra mondiale, un edificio paradossalmente che non dovrebbe aver bisogno di questo lavoro, perché è un edificio noto, che è il centro traumatologico, l'ospedale traumatologico di Bari. È un edificio che viene progettato da uno dei più importanti architetti italiani del secondo dopoguerra, Samonà, che tra le altre cose diventa il preside dell'Istituto Universitario di Venezia, che lavora per l'Inail, che finanzia questo tipo di infrastrutture, sono degli ospedali che hanno una destinazione specifica, cioè quella di essere a disposizione per la riabilitazione e per la cura di coloro che si infortunano sul lavoro. E già Samonà progetta, poi lo dirà la nostra laureanda, un ospedale a Venezia, in una condizione molto più urbana di quella di Bari. A Bari invece progetta questo edificio nei pressi della città del Levante. Un edificio che, appena realizzato, diventa estremamente famoso, perché tutte le riviste più importanti dell'architettura se ne occupano. Proprio perché è un edificio all'avanguardia, permette in relazione non solo la cura dell'infortunato, ma anche la sua riabilitazione psicofisica. Quindi c'è tutto un rapporto tra le stanze di decenza, gli spazi verdi, dove in qualche modo il lavoratore infortunato deve anche superare il trauma dell'infortunio, e in questo ruolo il verde, gli esterni, i giardini, e la vista, la possibilità di traguardare dall'ospedale il mare, diventa fondamentale. Un progetto dunque importante, di cui si occupano molti critici dell'architettura internazionale, che poi a un certo punto finisce nell'oblio, nel momento in cui, dopo una serie di, diciamo, vicissitudini legate alla gestione che l'ASGO fa di questo edificio, oggi è abbandonato. Una delle architetture contemporanee più importanti, in Bari, che oggi è abbandonato. E quindi anche in collaborazione con una campagna di sensibilizzazione che è il Docomomo, che è questa associazione che si occupa della documentazione dell'architettura moderna, cioè realizzata dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Laureanza Dentamaro ha, anche in questo caso, fatto un lavoro di valorizzazione dei giacimenti archivistici. E abbiamo trovato nell'archivo centrale di Bari tutta una serie di disegni che sono anche, diciamo così, hanno un loro fascino legati anche alla qualità del disegno. Ci sono alcune prospettive che poi noi abbiamo utilizzato come, diciamo, interfaccia grafica di questo lavoro, che sono veramente affascinanti, quindi anche per la storia dell'architettura. E anche in questo caso il design si occupa di valorizzare questo progetto e di rendere giustizia sia all'autore, che altrove viene celebrato come uno dei più importanti architetti italiani del Secondo Dopoguerra, ma anche a, diciamo, in questo caso specifico, anche la prerogativa di voler stimolare le istituzioni che oggi gestiscono questo ente, hanno in carico questo ente, in realtà non lo gestiscono perché è abbandonato all'incuria. e quindi speriamo che questo tipo di operazioni servano anche, non solo scientificamente, a recuperare la memoria, ma anche a valorizzare, come dice il titolo di questo laboratorio, gli edifici, le esperienze, i brani di storia del nostro territorio rispetto al possibile riutilizzo di queste, che passa però ovviamente per la comprensione dell'importanza del valore storico di questi edifici rispetto al quale noi, con questo laboratorio, cerchiamo di rendere giustizia utilizzando appunto degli strumenti che sono insiti nella pratica del design che però spesso non vengono opportunamente utilizzate. Grazie, io lascerei la parola alle ragazze. In realtà, la professoressa Mazzelmo, la chiamiamo su WhatsApp col telefonino e a casa e avrebbe detto due parole e poi possiamo chiamarlo al telefonino e poi mettiamo al microfono. Allora, lo faccio molto bene. Se vuole presentare, si lo aspettate. Sì, allora, magari io farei parlarvi le prime due, così nel frattempo noi organizziamo o lo facciamo subito? Dimmi tu. Se si faceva che presentasse all'inizio, va bene, allora, se lei è già pronta, invertiamo la scaletta a colpo di scena e facciamo aprire il discorso a... Se lei ha 10 minuti, facciamo parlare prima loro e così lei parla per terza e abbiamo il tempo di organizzare. Allora, ritorniamo al progetto originario, quindi, così noi nel frattempo organizziamo questa cosa mediatica, internazionale, così, e quindi, come da programma, introducono Carvutto, Ilenia e De Cosmo Brunella che hanno lavorato insieme sulla fila in delante. Grazie per l'attenzione e lascio la parola ai ragazzi. Buongiorno, ringrazio la commissione per la parola data e soprattutto ringraziamo anche il prof. Franco Purini che si è interessato alla nostra tipologia di ricerca d'archivio e ci ha gentilmente fornito l'autorizzazione per utilizzare appunto il logo che vedete in copertina e che in seguito si ripeterà in tutte le schede del nostro progetto del nostro concept di tesi. Dunque, la presente ricerca di tesi si colloca nel laboratorio Historical Heritage and Archival Sources del professor Labalestra ed intende finalizzarsi sull'indagine delle potenzialità delle diverse discipline del design circa la ricerca delle fonti primarie e soprattutto circa la divulgazione dei giacimenti d'archivio. Dunque, è stato possibile svolgere il nostro percorso di ricerca di tesi tramite appunto un lavoro di ricerca durato sei mesi nel quale abbiamo potuto consultare diversi fondi archivistici. Passo la parola alla mia collega. Grazie. Allora, cominciamo questa trattazione. L'intensificarsi dei traffici con il resto d'Europa e il Medio Oriente e l'attività edilizia connessa alla costruzione della Bari Nuova assegnarono nel capoluogo pugliese la nascita di un'economia sempre più forte che cominciò a concepire le strutture indispensabili alla creazione di un moderno complesso urbano. Fu l'inizio di quelli che per Bari possono essere definiti i favolosi anni trenta. Esempio significativo di urbanistica fascista è il lungomare di Bari inaugurato nel 1927 realizzato per accordare la città con la futura fiera del Levante poi costruita nel 1930. Oggi si estende per oltre 15 chilometri da Ponente a Levante costeggiando le mura della città vecchia. Il suo fronte fu concepito per conferire un nuovo volto alla città che era considerata la porta d'Italia che si apriva sul mare e verso i paesi del Mediterraneo. Con la sua sequenza di edifici monumentali il lungomare barese doveva presentarsi come piena espressione della politica militare ed economica del regime. Grande sostenitore dell'impresa barese fu Araldo di Crollalanza ministro ministro dei lavori pubblici sottosegretario e podestà della città di Bari fra le tante opere da lui disposta una di elevato pregio è la fiera del Levante a partire dalla ricostruzione nel primissimo dopoguerra la fiera ha fatto sempre più di Bari una vetrina aperta sul mondo e in particolare sui paesi del Mediterraneo la prestigiosa campionaria contribuisce a mantenere inalterato il ruolo del mercato per gli operatori economici da tutto il mondo di una tale fiera Bari coltivava il sogno e lo vide realizzarsi grazie alla lungimiranza degli amministratori dell'epoca e di Araldo di Crollalanza che ne fu l'ispiratore il 6 settembre del 1930 fu addirittura il re Vittorio Emanuele III ad inaugurare la prima edizione del grande Emporio barese e dello splendido quartiere realizzato dall'architetto Marcello Piacentini area metropolitana fra le più vitali dell'Adriatico e del Mediterraneo Bari ha nella fiera del Levante uno dei più efficaci strumenti per la sua promozione internazionale che la rende una delle zone più appetibili per i nuovi insediamenti industriali in particolare delle grandi multinazionali che vanno ad aggiungersi ai piccoli e medi operatori locali grazie anche alla sua particolare collocazione geografica situata in una delle grandi vie di collegamento con i popoli d'Oriente la città di Bari ha svolto un'importante funzione di intermediazione negli scambi commerciali fondato nel 1919 da Benito Mussolini e salito al potere nel 1922 il fascismo raccolse in Puglia un numero elevatissimo di consensi Mussolini ricompensò questo dato con importanti cariche ai capi del fascismo pugliese a Bari a Rado di Crolalanza venne nominato un po' d'està di Bari poi sottosegretario in seguito ministro dei lavori pubblici il mezzogiorno fu soggetto ad un vastissimo piano di ricostruzione e rinascita annunciato già nel 1922 dal ministro Michele Bianchi e che ebbe come obiettivo quello di ammodernare il sud nel meridione partirò una serie di iniziative per dotare la città di infrastrutture edifici pubblici e abitazioni dedicate all'edilizia popolare e pubblica nel 1900 Bari viste una condizione marginale rispetto ai centri dove si elaboravano le idee e le posizioni da attuare sull'architettura e sulla città ma durante il ventennio fascista in cui ci si dedicava ad una definizione di architettura di stato assunse rilevanza a indagare su ciò che avvenne al di fuori dei confini e lontano dai centri principali la salita al potere di Benito Mussolini portò a Bari ad un processo di elevamento economico civile e morale Mussolini infatti durante un discorso tenutosi a Napoli il 24 ottobre del 1922 sentenziò che Bari sarebbe diventata assieme a Napoli e Palermo uno dei tre cardini principali di forza di potenza e di energia ed aggiunse di voler fare di Bari una delle prime città d'Italia per innalzare il prestigio di Bari istituì la Corte d'Appello e l'Università che per anni erano solamente un sogno e un'aspirazione e volle fare del Gran Porto una realtà concreta stanziando anche somme rilevanti istituì anche il nuovo ente economico della Camera del Commercio Italo-Orientale e sollecitò anche la trasformazione della ferrovia della Bari-Barletta l'architettura a questo punto risultò essere lo strumento più valido per attribuire un nuovo volto alle città il vivo interesse di Mussolini per la città di Bari trovò entusiasti esecutori specialmente l'onorevole Erardo di Crollalanza che legò inevitabilmente il suo nome a infrastrutture di elevatissimo pregio come appunto il lungomare di Bari costruito tra il 1927 e il 1935 da sempre le fiere sono nate e si sono sviluppate al centro di aree o territori attivi sul piano economico sociale e culturale le posizioni geografiche dei centri in cui esse sorgevano non erano lasciate al caso si trattava di luoghi dotati di una particolare attrazione economica e commerciale alla fine dell'ottocento e all'inizio del ventesimo secolo le esposizioni universali allestite nelle grandi capitali venivano considerate come luogo principale per un proficuo scambio di esperienze di lavoro nei diversi rami della scienza e del sapere infatti le fiere e le esposizioni erano il luogo più adatto per presentare nuove invenzioni nuove tecniche produttive e anche più recenti sistemi per far nascere e conoscere un prodotto la fiera del levante nasce come espressione e documentazione dello sviluppo di cui è stata soggetta la città di Bari il senatore Antonio De Tullio presidente della camera di commercio pensò ad un comitato che si occupase della preparazione di una nuova mostra che doveva essere organizzata ed estesa a tutta la regione soltanto quando salì al potere Benito Mussolini che volle fare di Bari la base principale della sua politica espansionistica verso il levante venne approvata all'istituzione della camera di commercio italo-orientale che rese il progetto della fiera del levante concreto l'onorevole di Crollanza insistè che si dovessero tenere a mente le necessità relative agli sviluppi edilizzi della città durante la scelta del suolo e che la fiera dovesse sorgere in un punto strategico di fatti la zona scelta fu quella di San Cataldo e di San Francesco all'arena nella giornata del 15 ottobre del 1926 venne letto lo statuto ufficiale con esso si sottolineava che tra i vari compiti l'obiettivo della fiera del levante fosse quello di curare la preparazione e l'impianto di Bari durante un'esposizione campionaria annuale di prodotti agricoli industriali sia italiani che orientali dopo un grande lavoro di propaganda realizzato sia dalla camera di commercio italo-orientale sia dalla gazzetta del mezzogiorno e sia dai deputati in particolar modo Araldo di Crolalanza e Panunzio il 19 settembre il capo del governo autorizzò la richiesta si acquistarono dunque i soli appunto nella zona di San Cataldo e San Francesco all'arena e il 6 settembre del 1930 Bari inaugurò la sua prima fiera del levante alla presenza del re Vittorio Emanuele III Araldo di Crolalanza infine divenne già da esordiente protagonista della vita barese è stato giornalista politico e ministro dei lavori pubblici durante il fascismo aderì al fascismo già nel 1919 e guidò gli squadristi pugliesi durante la marcia su Roma fece carriera tra le file del partito nazionale fascista e fu nominato podestà per il biennio del 1926 1928 eletto deputato del PNF dal 24 al 43 fu prima sottosegretario nel 1928 poi nel 1930 venne eletto ministro dei lavori pubblici fino al 1935 fra le tante opere disposte da Dicro e la Lanza vanno sicuramente annoverati la stazione ferroviaria di Milano la stazione marittima di Napoli la biblioteca nazionale di Firenze la galleria direttissima Firenze e Bologna il ponte sulla laguna tra Venezia e Mestre e la fiera del Levante sebbene la prima idea della fiera del Levante è attribuita al senatore Araldo di Crolalanza è in scusate al senatore Antonio De Tuglio è in di Crolalanza che divenne realtà e infatti venne inaugurata il 6 settembre del 30 alla presenza del re Araldo di Crolalanza dunque volle e fece di Bari con l'anello di congiunzione tra Oriente e Occidente grazie passo la mia parola alla collega dunque come accennato in precedenza il nostro percorso d'archivio ha avuto la durata di 6 mesi durante i quali abbiamo svolto un'intensa ricerca per quanto riguarda i fondi storici e soprattutto ha previsto la consultazione di svariati faldoni dunque il nostro punto di partenza per la ricerca d'archivio è stato l'archivio di stato di Bari grazie al quale abbiamo potuto consultare il fondo privato Michele Viterbo in seguito siamo state in fondazione Giuseppe Di Vanni a Conversano ancora in fondazione Giuseppe Tatarella a Bari ed infine siamo riuscite a consultare con grandi difficoltà anche l'archivio della Fiera del Levante per un totale di 340 documenti raccolti la cui maggioranza ovvero 300 documenti risulta appartenere all'archivio di stato di Bari dunque alla fine del nostro percorso abbiamo potuto constatare come la documentazione raccolta su araldo di Crollalanza risulti essere nettamente inferiore rispetto alla documentazione sulla Fiera del Levante infatti il totale dei documenti raccolti nel primo caso ammonta ad 85 costituiti comunque appartenenti a diverse categorie tra cui abbiamo corrispondenze articoli di giornale e anche materiale grafico i fondi consultati che nel caso appunto della ricerca su araldo di Crollalanza hanno potuto produrre questo risultato sono stati l'archivio di stato di Bari la fondazione Giuseppe Di Vagno e la fondazione Giuseppe Tatarella per quanto riguarda invece la documentazione sulla Fiera del Levante il totale dei documenti raccolti in questo caso ammonta a 255 anche in questo caso appartenenti a diverse categorie infatti qui abbiamo corrispondenze articoli di giornale opuscoli bollettini di informazione addirittura tessere di invito gentilmente appunto donateci dall'archivio di Levante che come abbiamo detto in precedenza ci ha permesso di consultare il fondo Michele Viterbo dunque in questo caso ancora i fondi consultati che hanno prodotto questo risultato sono stati l'archivio di stato di Bari il fondo privato Michele Viterbo l'archivio della Fiera del Levante nel quale abbiamo potuto consultare gli annuari illustrati originali di varie edizioni della Fiera del Levante ed infine la fondazione Giuseppe Tatarella dunque eseguendo un'analisi del materiale raccolto e soprattutto dopo aver svolto un intenso percorso archivistico abbiamo potuto constatare come la modalità con cui i documenti vengono schedati e catalogati risulti essere la stessa benché si tratti di un archivio pubblico o di un archivio privato infatti si tratta di un inventario digitale nel quale è possibile svolgere la ricerca utilizzando parole chiave data o collocazione del documento per la nostra personale esperienza questo ha causato diverse problematiche causando anche ritardi e disordini durante la ricerca per questo nasce la volontà di studiare e di proporre un metodo per schedare questi documenti e soprattutto un metodo differente da quello con cui ci siamo approcciate durante il nostro percorso di tesi per questo presentiamo il nostro concept di progetto che sostanzialmente consiste in una serie di schede infografiche costituite da una serie di immagini testi e grafici essenziali dunque come possiamo notare in alto a sinistra nelle schede è presente un codice esplicativo che vuole descrivere il nome dell'archivio consultato il numero dell'archivio consultato che permette di disporre in ordine crescente i documenti appartenenti all'archivio stesso quindi abbiamo prima di tutto la testimonianza storica del documento quindi vi è l'immagine ancora l'immagine affiancata da dati generali che sono necessari alla descrizione di quest'ultimo infatti abbiamo nome del documento archivio di appartenenza collocazione data di consultazione supporto ovvero il tipo di materiale con cui il documento è stato stipulato formato del documento ed infine note aggiuntive che invece mirano alla descrizione più completa del contenuto del documento stesso ancora abbiamo pensato potesse essere utile utilizzare uno schema di tipo infografico che servisse a collocare nello specifico e in modo più chiaro l'appartenenza del documento stesso infatti vi è un elenco di tutti i fondi che sono stati consultati è evidenziato il faldone quindi la busta d'appartenenza del documento quindi sostanzialmente il nostro concept di progetto mira a facilitare la ricerca d'archivio soprattutto cercando di attribuire ad un possibile fruitore una chiave più semplice e diretta per la consultazione d'archivio grazie per l'attenzione bene adesso se Miriam intanto carica la sua presentazione cerchiamo di fare questa breve introduzione alla professoressa Maddaluno che ha avuto la pazienza e la disponibilità di seguire Miriam mentre era lì a Lisbona e quindi mi sembrava se riusciamo mi sembrava anche diciamo non doveroso ma un gesto di riconoscimento della disponibilità che ci ha dato anche perché la professoressa Maddaluno è una laureata di questo Politecnico della Facoltà di Architettura quindi lascio a lei la parola buongiorno buongiorno Raffaella allora ti metto con un microfono in viva voce e ti ringraziamo di essere qui con noi e speriamo anche più spesso e in maniera più continuativa allora ti metto in viva voce e grazie ancora ciao puoi parlare Raffaella si ti sentite si ti sentite si ti sentiamo parla pure eccoci qua posso parlare si 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 perfetto allora innanzitutto buongiorno a tutti ringrazio tantissimo per questa possibilità per me non è soltanto un momento di natura scientifica ma è anche un momento di natura sentimentale ho un legame con la Facoltà di Bari e con il Politecnico di Bari sono una laureata sono una laureata a Bari la professoressa Rosanna si 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 a posto tutto a posto ok ricomincio no 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 tutto a posto ti abbiamo seguito la professoressa Carullo che io ancora chiamo professoressa Carullo è stata la mia tutor di testi sono stata la sua prima studentessa quindi per me diciamo questo momento è una specie di collegamento sentimentale scientifico a parte questo ringrazio e saluto tutta la commissione e volevo spendere solo due parole sulla possibilità che ho avuto di conoscere questi studenti che venivano da Bari me li sono trovati 5-6 tutti insieme a lezione tutti di Bari preparatissimi e bravissimi attenti con grande voglia di imparare e con una mentalità aperta a queste possibilità sì sì tutto a posto ok allora d'altra parte poi questa è stata l'occasione per diciamo scoprire che c'era un interesse comune con con il professor La Balestra perché il mio interesse per gli archivi continua e continua sempre molto forte per me la ricerca storica deve passare attraverso la lettura e la visione delle fonti primarie che sono gli archivi e d'altra parte questo legame tra Italia e Portogallo che continua diciamo ad essere la mia ossessione e che in qualche modo mi fa sentire ancora legata alle mie origini quindi da parte mia c'è tutta questa volontà di costituire diciamo un grande gruppo di lavoro che vede il Politecnico e la Facoltà di Architettura di Lisbona su questa possibilità di ritornare in archivio e ricostruire un po' delle storie perdute delle storie che fanno parte della nostra identità per il Portogallo l'Italia è sempre stata una fonte di esempio di ispirazione di studio o una quantità di architetti portoghesi che sono venuti nel secolo diciamo nel ventesimo secolo a studiare i casi italiani diciamo Pardalmontero è solo uno dei tantissimi esempi quindi vi ringrazio per questa possibilità e faccio l'imbocca al lupo a Miriam e un grande saluto a tutti grazie Maddalena Sì Raffaella grazie grazie mille la dimensione sentimentale è reciproca dall'Italia dal Portogallo e dal Portogallo all'Italia un abbraccio forte e grazie di essere stata con noi grazie grazie a voi per questa possibilità buona allora buongiorno ringrazio la commissione ringrazio ancora il professor Lavalestra e la professoressa Maddaluno la presente ricerca di tesi si inserisce nel laboratorio historical heritage and archival sources ed è del professor Lavalestra e intende ed è finalizzata all'indagine delle potenzialità delle discipline del design relazionate rispetto ai materiali d'archivio nel mio caso specifico la ricerca si è concentrata sul tema dell'architettura relazionata all'interno dei sistemi dittatoriali all'interno del territorio italiano e all'interno del territorio portoghese sono entrambi sia il fascismo che l'estado nuovo molto correlati tra loro per le varie vicende storiche ma soprattutto anche nelle vicende architettoniche partendo dal Portogallo l'estado nuovo si è sviluppato a partire dal 1933 ed è stato un sistema dittatoriale che sin dall'inizio ha visto come guida Antonio Delivera Salazar lo stesso è avvenuto nel periodo parallelamente in Italia attraverso Mussolini attraverso la figura di Benito Mussolini a guida del regime fascista fino al 1943 il sistema italiano il sistema portoghese sono correlati tra loro perché hanno vissuto le stesse vicende storiche hanno vissuto nello stesso periodo periodi di dittatura e di fascismo e hanno avuto le medesime risposte nell'ambito dell'architettura per quanto riguarda le relazioni che sono appunto emerse dal paragone tra i due paesi importantissima è la figura di Antonio Ferro un politico e diplomatico portoghese che si è occupato delle relazioni tra i due paesi e anche la messa in contatto tra i due regimi attraverso un dialogo diretto tra Benito Mussolini e Antonio Delivera Salazar importanti sono infatti ancora oggi le ricerche di archivio che vengono svolte in campo ma soprattutto i documenti che rimangono in archivio dei dialoghi tra i due dittatori e della stima reciproca che si sono sempre espressi per quanto riguarda il mondo dell'architettura portoghese durante l'estado nuovo durante il regime dittatoriale importantissima è la figura di Porfirio Pardal Monteiro un architetto che è stato poi nominato è sopra nominato e ricordato ancora oggi come l'architetto del regime poiché numerose furono le commissioni da parte dello Stato dittatoriale nei suoi confronti per esprimere appunto quella potenza dello stesso Stato importanti sono ancora oggi le testimonianze lasciate da Pardal Monteiro all'interno della città di Lisbona quali stazioni marittime tra cui per esempio troviamo quella di Caish Dosodre o quella di Alcantara vi è anche la stazione di Conte Ovidos tutte costruite a partire dal 1926 fino al 1942 importanti sono anche le architetture che rimangono ancora oggi all'interno della capitale portoghese realizzate da Pardal Monteiro quali per esempio l'igreggia da Nostra Signora da Fatima costruita nel 1938 e la sede del diario dei Noticias che al tempo era uno dei giornali più importanti attraverso cui il giornalismo all'interno della capitale si sviluppò di cui appunto Monteiro curò il progetto di architettura arrivando al focus della mia tesi riguardo la città di Lisbona si giunge all'istituto tecnico universitario anche chiamato oggi attraverso la sigla IST Monteiro non si occupò della sua costruzione ed edificazione poiché quella avvenne nel 1911 ma fu a partire dal 1930 che vi furono dei lavori affinché il campus universitario oggi conosciuto come campus di Alameda per la zona in cui è situata nella parte nord della capitale vennero appunto attivati a partire dal 1930 con a capo il Pardal Monteiro come architetto guida ma importantissimo fu il lavoro realizzato in team poiché lo Stato e appunto il governo decise di chiamare per la realizzazione per l'ampliamento di quello stesso campus circa 30 architetti tutti dallo Stato portoghese affinché potesse essere realizzato un lavoro univoco perché appunto si necessitava di così grandi personalità all'interno dello sviluppo del progetto poiché il campus realizzato sarebbe stato uno dei più grandi della capitale e oggi è ancora uno dei più grandi dell'intero Portogallo l'istituto tecnico universitario e gli annessi documenti di archivio sono stati tutti di grande aiuto nel comprendere la struttura e nel capire i parallelismi che vi sono effettivamente tra la città universitaria portoghese e la città universitaria italiana a Roma per quanto riguarda i documenti di archivio importantissimo è il ruolo svolto ancora oggi dallo studio Monteiro che rimane appartenente attualmente ai nipoti di Porfirio Pardal Monteiro attraverso cui è possibile conservare intatti tutti i documenti e anche gli iniziali bozze di progetto infatti per la mia tesi è stato importante anche il dialogo con l'attuale studio e la consulta della stessa tesi realizzata da uno dei nipoti appunto sul ruolo di Pardal Monteiro all'interno della storia portoghese dell'architettura numerose sono anche le mostre che sono state dedicate all'architetto all'interno della città di Lisbona all'interno del museo d'Odiniero queste sono le varie archivi e le varie biblioteche che mi hanno permesso di appunto rincontrare tutti questi materiali d'archivio e studiare la struttura dell'istituto tecnico importante è stato il lavoro soprattutto all'interno dell'archivio dell'ordine degli architetti portoghese ma anche quello all'interno della stessa università in cui ho avuto la possibilità di studiare e all'archivio adesso annesso c'è da evidenziare che i principi attraverso cui Monteiro rappresentò lo Stato furono gli stessi che Piacentini in Italia decise di utilizzare per appunto farsi portatore di quelli stessi ideali e di quello stesso potere vi è sempre un equilibrio all'interno di tutte le forme un concetto di monumentalità che viene espresso attraverso l'utilizzo di materiali puri quali per esempio il cemento armato il travertino tutti i materiali che servivano a dare un'idea di forza del potere ma anche di sincerità viene chiamata in architettura nel caso di Monteiro il paragone avviene con Marcello Piacentini perché il Pardal Monteiro e tutti gli architetti portoghisi si recarano in Italia in numerosi viaggi proprio per esplorare e fare visita a tutte quelle architetture che sapevano che da quel momento in poi avrebbero fatto da guida a livello europeo in tutto il panorama appunto d'Europa dell'architettura Marcello Piacentini infatti realizzò il campus a Roma e fu proprio quello la sede grazie alla quale Monteiro una volta tornato in Portogallo e tutti gli altri architetti ebbero la possibilità di iniziare con i lavori all'interno della capitale di Marcello Piacentini possiamo dire anche che fu lui stesso guida e motivo di ispirazione anche per un'altra università in Portogallo all'interno della città di Porto realizzata da Telmo Cottinelli Marcello Piacentini è tutt'oggi conosciuto come uno dei più importanti architetti italiani per gli interventi realizzati principalmente nella capitale romana possiamo citare la via della conciliazione ma possiamo citare anche il palazzo della civiltà cosiddetto anche il Colossio Romano oggi simbolo di quel fascismo e dell'epoca dittatoriale all'interno del territorio italiano di Marcello Piacentini però parleremo dell'istituto tecnico dell'attuale chiamata Sapienza è stata proprio quella la città universitaria che ha fatto da guida all'interno del territorio portoghese per lo sviluppo anche all'interno dell'altra nazione del campus universitario della città universitaria romana possiamo dire che è stata guida perché quegli stessi principi di monumentalità di purezza delle forme di geometricità e di espressione del potere vennero richiamati qui possiamo osservare per la prima volta l'inaugurazione che vi fu della città universitaria a cui assistettero nel 1935 anche le truppe di Stato e anche la famiglia reale con Vittorio Emanuele III la città universitaria romana si sviluppò nella zona tra Castro Pretorio e la via Tiburtina in una zona che si sapeva che da quel punto in poi sarebbe diventata centrale per tutto per tutto il sistema universitario e importanti sono stati documenti di archivio rinvenuti per comprendere i vari parallelismi tra questa città universitaria e quella portoghese rivengono l'asse principale attraverso cui e lungo il quale si sviluppano le strutture più importanti il lavoro di allargamento aveva previsto sin dall'inizio la costruzione in parallelo di più blocchi d'architettura che poi avrebbero fatto da sede alle facoltà di giurisprudenza e alle facoltà di medicina e per rendere oggi la sapienza il campus universitario noto a livello mondiale ho voluto sintetizzare questo parallelismo e appunto creare un concept un concept di progetto realizzato all'interno dei siti ufficiali delle due università dell'istituto tecnico a Lisbona e della città e della sapienza a Roma dedicando una sezione apposita alla storia dell'università del campus universitario e soprattutto al ruolo ricoperto dai due architetti qui troviamo la pagina ufficiale dell'istituto tecnico superior ancora oggi molto importante a livello di studi universitari in tutto il Portogallo attraverso cui troviamo appunto la messa in vendita e il tuomo e con gli annessi merchandising del tuomo sviluppato dal Monteiro sulla personalità e la storia della città universitaria e lo stesso ho voluto fare per la sapienza sviluppando nel sito ufficiale dell'università un concept che prevedeva appunto lo sviluppo e la messa in vendita dello stesso tuomo riguardo Piacentini e l'annesso merchandising grazie ancora e obrigada salve il mio lavoro di tesi si inserisce all'interno del laboratorio Historical Editage and Archival Source che ha il fine di valorizzare le discipline del design attraverso la ricerca d'archivio valorizzando le fonti primarie questo mio lavoro si basa su una ricerca storica resa possibile grazie alla consultazione di documenti d'archivio collocati all'interno dell'archivio del comune di Bari finalizzati ad approfondire gli spazi della cura del centro traumatologico ortopedico di Bari di Giuseppe Samonà considerato rispetto al panorama dell'epoca un progetto rivoluzionario che affronta in modo innovativo il rapporto con il tempo la disposizione dell'edificio a fronte mare mira alla realizzazione di un'attenta assistenza sociale non solo per i servizi sanitari ma anche per la salute mentale dei pazienti l'inquadramento urbanistico del CTO si colloca nella zona di San Cataldo che nell'Ottocento tale zona era definita di scarso interesse dovuto principalmente alla presenza di zone paludose malsane che non erano state appunto bonificate solo nel 1868 ritroveremo il primo insediamento industriale con la costruzione delle saponerie meridionali la sistemazione della zona di San Cataldo avvenne soltanto nel novecento in cui furono effettuate delle bonifiche delle zone paludose che cambiarono l'assetto urbanistico circostante e la costruzione della fiera diventò appunto attività edilizia tra il 1948 e il 1954 venne costruito il centro traumatologico ortopedico dell'Inail progettato da Giuseppe Samonà Giuseppe Samonà è una delle figure più complesse e di spicco dell'architettura italiana del novecento proviene da due famiglie storiche conclude i suoi studi a Palermo nel 22 e la sua attività didattica inizia a Messina e prosegue nell'oresità degli studi di Federico II Alcune delle opere più importanti di Giuseppe Samonà sono la palazzata o teatro marittimo a Messina la sua importante attività accademica all'università di Venezia inoltre a grande importanza anche il centro traumatologico ortopedico di Bari realizza la villa Cimini di Palermo nel 50 e il teatro popolare di Sciacca nel 1970 nell'ambito della mia ricerca si può collocare anche il palazzo di Inail chiamato anche palazzo Samonà che è la realizzazione della sede dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro l'importine usi di lavoro di Venezia che rientra nel vasto programma inaugurato a partire dagli anni 30 per offrire agli assicurati copertura economica e assistenza medica nel secondo dopoguerra nasce l'esigenza di realizzare un edificio che potesse ospitare operai contadini e lavoratori che necessitavano di parecchie attività sanitarie e riabilitative l'Inail commissiona l'architetto Giuseppe Samonà la realizzazione del centro traumatologico ortopedico di Bari il primo progetto è datato nel 1947 che collocava l'edificio in un lotto più piccolo con l'orientamento perpendicolare al mare nel 1948 il secondo progetto acquisisce altri due lotti confinanti tra cui dove sorgeva la villa aurora del conte Sabino Altamurano che era dotato di un poesioso giardino che aveva l'obbligo secondo il piano Petrucci di essere preservata l'edificio la struttura dell'edificio si divide appunto in un corpo centrale di 5 piani più monoblocco per le degenze nel piano seminterrato ritroviamo servizi generali come cucina lavanderia o magazzini mentre nel piano terreno era compreso il reparto ambulatoriale elettroterapia e le sale di degenza mentre il monoblocco centrale si eleva per due piani in cui ritroviamo nel seminterrato il reparto necroscopico la centrale era condizionata nel piano terreno troviamo l'accettazione e il pronto soccorso mentre al piano primo sono organizzati la biblioteca gli studi dei medici e un reparto di ricerca in un altro corpo di fabbrica disposta a sinistra ritroviamo gli alloggi per il personale gli archivi e i depositi per uffici posteriormente invece ritroviamo una sala di accoglienza in cui era possibile effettuare convegni e conferenze nel 1954 sono state aggiunte altre adegenze una piscina una palestra e un giardino attrezzato per la riabilitazione grazie ad aver consultato i documenti d'archivio presso il comune di Bari mi è stato possibile ricostruire la storia dell'evoluzione del CTO sistemando cronologicamente tutti i documenti ritrovati come ad esempio il 5 dicembre del 1947 Samona presenta il primo soggetto progetto di massima per il CTO di Bari a destra ritroviamo alcune delle piante che erano presenti all'interno della busta 120 il 9 dicembre abbiamo l'approvazione del progetto da parte del comune di Bari il 14 gennaio abbiamo la relazione come presentate le tavole in conlle azioni del primo progetto mentre il 27 ottobre e il 22 novembre Samona presenta un secondo progetto per il CTO in cui vengono aggiunte le nuove varianti di progetto ci sono altri avvenimenti come il 52 ritroviamo l'inaugurazione del CTO fino a poi ad arrivare al 99 in cui il CTO termina le sue funzioni ho realizzato un indice di documenti d'archivio dove ho organizzato ogni documento ritrovato distinto per busta le buste da me consultate sono state appunto 120, 124 e 131 e ho organizzato ogni documento per ordine cronologico e per tavole numerate dopodiché sono passata la schedatura dei miei documenti d'archivio utilizzando questa metodologia che vede in alto a sinistra il nome dell'archivio e il numero del documento a cui fa riferimento in basso ritroviamo il nome del documento l'archivio la collocazione del documento in quale busta si trova appunto la data di consultazione il tipo di materiale di supporto il formato e infine delle note aggiuntive che descrivono appunto il contenuto e le informazioni generale di ogni documento infine ho proposto dopo un'attenta analisi della documentazione di archivio ho deciso di proporre il centro tomatologico di Bari realizzato da Giuseppe Samonà ipotizzando una mostra in cui valorizzo il edificio attraverso l'esposizione di tutti i documenti ritrovati nell'archivio di comune di Bari il Docomomo è un'associazione che nasce nel 1990 e nel 2002 apre una serie di sezioni regionali come ad esempio in Puglia le sue finalità principali sono la conoscenza e la documentazione del patrimonio architettonico moderno la salvaguardia e lo studio di metodologie e criteri di intervento per testimoniare e valorizzare ogni edificio grazie per l'attenzione grazie ringrazio la commissione e il professor Labalestra allora questa attresi propone un lavoro di ricerca inserito nel laboratorio di Stolica l'Heritage e l'Archival Sources del professor Labalestra volta ad indagare la disciplina del design per la valorizzazione delle fonti d'archivio storiche e soprattutto per proporre lo sviluppo e la conoscenza del patrimonio storico artistico e culturale attraverso la raccolta di documenti d'archivio e di informazioni riguardanti le dinamiche dell'architettura fascista in Puglia avvenuta durante i sei mesi di ricerca si ha il proposito di favorire la conoscenza del territorio dell'area del piccolo centro abitato dell'area di Palagianello attraverso il contatto di questa cittadina con l'architetto Giovanni Iacobucci specialmente nel caso della mia tesi attraverso il progetto della casa del fascio di Palagianello un progetto mai realizzato in questa diapositiva possiamo osservare il progetto di un grande architetto del periodo fascista Giuseppe Terragni attraverso questo progetto che ha partecipato al concorso del 1934 per il Palazzo Littorio possiamo capire l'importanza della casa del fascio per il periodo fascista infatti il Palazzo Littorio è la denominazione della casa del fascio nei grandi centri abitati con casa del fascio casa di vittoria si intende quell'edificio costruito ad hoc con lo scopo di essere la sede del partito nazionale fascista infatti i migliori architetti furono ingaggiati per progettare le case del fascio e se rappresenta un caso esemplare di edilizia che più di tutte le altre ha contribuito fortemente alla propaganda architettonica una stima calcola che venissero realizzate circa 5.000 case del fascio di cui alcune istituite utilizzando edifici costruiti ad hoc già esistenti e la maggior parte create ex nuovo la stima calcolata delle case del fascio realizzate fu all'incirca 11.000 non tutte furono istituite in edifici ad hoc soprattutto nei piccoli centri abitati e meno della metà del totale delle case del fascio istituite furono create ex nuovo molte di esse non esistono più col passare degli anni ci sono stati degli eventi che hanno portato alla distruzione o alla demolizione di questi edifici come ad esempio disastri naturali come terremoti o decisioni di operazioni di decoro urbano o semplicemente eventi storici come ad esempio il bombardamento terroristico angolo-americano del 1944 qui sono riportati alcuni esempi delle case del fascio meglio conservate oggi in Italia che possiamo notare attraverso queste case del fascio l'architettura del periodo fascista si tratta di uno stile razionalista uno stile caratterizzato dalla stretta connessione tra funzione e forma da angoli netti volumi netti dall'assenza di decorazioni a parte i simboli fascisti quali i fasci e l'aquila qui viene riportato un diagramma a torta che indica le case del fascio che sono riuscito a trovare attraverso delle ricerche e le consultazioni in Puglia qui vediamo che le case del fascio presenti nei capoluoghi di provincia sono segnati con dei cerchi all'interno vuoti mentre le case del fascio nei piccoli comuni sono segnati con dei pallini pieni neri mentre l'oggetto di studio di questa tisi cioè la case del fascio di Palagianello è segnata col quadrato nero qui sono rappresentate alcuni esempi di case del fascio dei capoluoghi di provincia pugliesi come quella di Tanato che è una delle migliori conservate al giorno d'oggi molte case del fascio sono state riutilizzate come quella di Lecce ad altre funzioni come in questo caso il palazzo degli uffici finanziari di Lecce invece questi sono alcuni esempi di case del fascio nei piccoli comuni pugliesi Palagianello è un piccolo centro abitato in provincia di Taranto questo posto è profondamente caratterizzato dalla gravina presente su tutta l'area questa gravina un tempo era abitata infatti Palagianello offre ai turisti la possibilità attraverso percorsi attrezzati di ammirare le bellezze naturali della gravina e di visitare gli villaggi e le chiese rupestri altri luoghi di interesse all'interno di Palagianello sono ad esempio la chiesa della Madonna delle Grazie molto interessante poiché parte della chiesa è scavata direttamente nella montagna mentre è presente anche il grandissimo castello medievale Stella Caracciolo che potrebbe essere benissimo inserito in una classifica di castelli più grandi pugliesi come già detto in precedenza questa ricerca di tesi oltre all'obiettivo di offrire una modalità pulita e chiara per consultare i documenti d'archivio attraverso le schede tipo possiede il proposito di potenziare attraverso per l'appunto il contatto di questo centro abitato con l'architetto Jacobucci il profilo della città e valorizzarne l'immagine aprendo una parentesi un caso esemplare è Matera Matera grazie al ruolo della disciplina del design è riuscita a valorizzare il suo patrimonio storico-culturale non a caso nel 2019 viene nominata capitale europea della cultura qui sono riportate due planimetrie scale 1 a 1000 del suolo di Palagianello queste due planimetrie sono state trovate negli archivi di stato di Roma e rappresentano due ipotesi di costruzione del luogo in cui doveva essere per l'appunto costruita la casa qui troviamo un terzo documento è una foto della città di Palagianello di un punto della città di Palagianello che possiamo ipotizzare come un terzo punto di costruzione qui viene messo a confronto la planimetria con la vista satellitare attuale della città di Palagianello sono riuscito a rintracciare il punto direttamente sulla mappa questa è la seconda planimetria messa a confronto con la vista satellitare e qui la foto dell'angolo in cui è stata scattata la fotografia presente nei documenti d'archivio questa linea del tempo rappresenta la carriera piena di dinamismo e professionalità dell'architetto Iacobucci questo architetto come si può notare ha contribuito fortemente al patrimonio architettonico della città di Frosinone oltre che nella provincia di Roma qui è rappresentata in alto la bibliografia più utile che più mi è stata utile per informarmi sull'architettura fascista in Puglia mentre in basso troviamo la bibliografia riguardante l'architetto Iacobucci vediamo il libro scritto dal pronipute Gianandria sfortunatamente defunto nel 2009 a Roma e il periodico degli ordini degli architetti della provincia di Frosinone dedicato a lui nell'anno 2009 in quanto l'architetto ha rappresentato ripeto un'immagine importante per la città infatti alla sua morte gli è stata dedicata anche una piazza questi sono i risultati della ricerca che ho compiuto durante i sei mesi purtroppo come ha già anticipato il professore è stato davvero difficile in quanto nemmeno nell'archivio della stessa città era presente il materiale riguardante la casa del fascino di Palagioanello unico risultato soddisfacente è stato l'archivio di Stato di Roma all'interno dell'archivio ho trovato i documenti inerenti all'incarico assegnato all'architetto Iacobucci in più gli apetalimetri e alcuni schizzi architettonici qui ho inserito solo alcune delle più importanti documentazioni trovate come ad esempio in questa lettera si prende atto che il partito nazionale fascista ha scelto il progetto tipo delle case del fascio dei piccoli centri dell'architetto Iacobucci per essere adattato al comune di Palagioanello qui viene dimostrato attraverso questo documento la donazione alla federazione dei fasci del suolo di Palagioanello per la costruzione della casa mentre qui prendiamo atto che è avvenuto l'invio di ben due copie del progetto della casa dittoria di Palagioanello quindi noi siamo per certi che è l'esistenza di questo progetto e in più c'è anche l'atto in cui vediamo l'invio di quattro copie dei dettagli architettonici del Sacrario e dell'Arengario per l'appunto ecco qui il dettaglio della foto schedata e del dettaglio del Sacrario in questo dettaglio troviamo la pianta il prospetto frontale la sezione laterale e lo schizzo prospettico e qui invece troviamo l'Arengario sempre pianta prospetto frontale e sezione laterale l'Arengario è una caratteristica della Casa del Fascio che permettiva di affacciarsi ad una piazza ed avviare il discorso al pubblico ok ha concluito ero emozionato grazie buongiorno a tutti e buongiorno alla commissione oggi presenterò il mio progetto di tesi dal titolo Marcello Piacentini il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la presente ricerca di tesi si inserisce nel laboratorio historical heritage scusate la mascherina l'ho dimenticata historical heritage and archival sources del professore La Balestra incentrata sull'indagine delle potenzialità del design rispetto alle pratiche di ricerca sulle fonti primarie e sulla possibilità di divulgazione del patrimonio d'archivio nel mio caso specifico la ricerca di archivio si è concentrata sul tema del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria grazie alla possibilità di accedere durante i sei mesi di analisi all'archivio di stato di Reggio Calabria il periodo storico a cui è riferita la mia tesi è il ventennio fascista prima dell'avvento del fascismo le opere pubbliche venivano condotte con estrema lentezza e con finanziamenti inadeguati nel momento in cui invece il fascismo prende piede in Italia uno degli obiettivi politici del movimento riguarda proprio le trasformazioni fisiche delle terre meridionali con particolare riguardo di quelle calabresi e prevedeva infatti l'ampliamento della rete statale e bonifica integrali di numerose aree della regione per far ciò per far sì che tutto ciò avvenga nascono appunto i provveditorati che sono appunto degli organismi che rappresentano il modo di portare lo Stato nell'estrema periferia italiana Reggio Calabria è la città più antica della Calabria greca è situata come sappiamo sulla pianta dello stivale qui il fascismo ha come obiettivo la realizzazione della Grande Reggio alla quale vengono aggregati 14 comuni l'espansione della città avviene grazie al sostegno finanziario dello Stato infatti il regime spende oltre 100 milioni per l'attuazione del piano regolatore il capo del partito fascista di Reggio Calabria e dell'amministrazione comunale Zerbi per dare lustro alla sua città ha intenzione di costruire una magnifica e costosissima galleria al centro della città sul modello delle gallerie da passeggio di Napoli di Roma e di Milano il progetto però successivamente verrà sostituito dalla più congrua costruzione del museo nazionale della Magna Grecia che sarà realizzato negli anni 30 da Marcello Piacentini Allora quest'ultimo è uno dei massimi esporenti dello stile architettonico fascista definito come Mediterraneo e caratterizzato da un'architettura spontanea e rurale è improntata soprattutto sull'avanguardia sia sull'avanguardia che sul monumentalismo Piacentini è stato uno degli architetti più vicini a Mussolini il quale nel 1929 lo nominò membro dell'Accademia d'Italia fu proprio infatti in questi anni che l'artista definì il suo linguaggio architettonico chiamato appunto classicismo semplificato che oggi si identifica con l'architettura fascista questo linguaggio appunto semplificava l'architettura da tutto il superfluo ricercando sempre la sobrietà la sincerità e la sintesi tornano appunto le superfici di muro lisce e tornano sostanzialmente anche le antiche leggi delle grandi architetture del passato l'architetto mantenne il tono dell'architettura classica senza fare uso però di colonne e capitelli al contrario adottò invece forme geometriche rigorose Piacentini inoltre fece ricorso a sistemi strutturali moderni come per esempio il cemento armato ricoprì gli edifici di travertino ma anche di altri pregevoli materiali come i materiali lapidei per conferire infatti alle architetture il senso della durata è un carattere di monumentalità rassicurante l'obiettivo della mia ricerca è di evidenziare come il design sia capace di cogliere dal patrimonio archivistico gli aspetti tecnici ma anche quelli estetici e saperne divulgare il perfetto connubio per fare ciò io ho ottenuto l'accesso all'archivio di stato di Reggio Calabria ho visionato e consultato 467 documenti su supporto cartaceo e ho compilato delle schede illustrative e descrittive di alcuni documenti di archivio del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria ogni scheda grafica è abbinata alla rispettiva scheda descrittiva in questa scheda che sto mostrando in questo momento in alto a sinistra troviamo un acronimo AMR che vuol dire archivio museo Reggio 1 è l'archivio che io ho consultato 011 sarebbe il numero del documento in base alla mia catalogazione come ho detto come ho detto prima ogni scheda illustrativa o anche scheda grafica è correlata alla sua scheda descrittiva come questa che vediamo in questo momento qui andiamo praticamente a sempre sulla sinistra in alto troviamo sempre lo stesso acronimo con il numero della della tavola in questa tavola precisa stiamo guardando il prospetto principale del museo archeologico di Reggio Calabria con la sua ovviamente scheda descrittiva in questo abbiamo il prospetto laterale del progetto del museo di Reggio Calabria con la sua scheda che spiegherò alla fine in questo stiamo vedendo il prospetto posteriore con la sua scheda annessa qui in questa scheda invece stiamo guardando un particolare costruttivo della porta di ingresso centrale e in questo invece stiamo guardando un particolare costruttivo dei serramenti del museo della Magna Grecia per quanto riguarda invece la scheda descrittiva troviamo il nome del documento ovviamente l'archivio dove si trovano questi documenti quindi in questo caso per tutti quelli che abbiamo visto fino ad ora si trovano nell'archivio di stato di Reggio Calabria la loro collocazione è fondo del geno civile di Reggio Calabria titolo terzo serie 1.3.1.1 busta 60 fascicolo 8 come vediamo nello schema d'albero che troviamo sulla destra il supporto è cartaceo e nelle note ho voluto inserire lo stato di conservazione del documento infatti tutti quelli che abbiamo visto fino ad ora sono tutti documenti cartacei e il loro stato di conservazione è discretamente buono la carta su cui si trova la rappresentazione presenta delle pieghe evidenti dovute al metodo chiaro della conservazione del documento che viene ripiegato su se stesso e riposto negli appositi faldoni grazie per l'attenzione bene abbiamo quindi con la presentazione di vecchia concluso la fase di presentazione adesso vi do due indicazioni su come ci organizzeremo la commissione si ritira per la deliberazione e la discussione relativa alla valutazione degli elaborati quindi avremo bisogno di qualche minuto almeno un quarto d'ora venti minuti però vi chiedo di rimanere in quest'aula di modo che al nostro oriento facciamo subito la proclamazione di questi ragazzi dopodiché vi chiederei gentilmente di allontanarvi di modo che possiamo procedere con la proclamazione dei ragazzi che hanno invece discusso la tesi stamattina vi chiedo la cortesia in questi momenti di spostamento magari di cercare di essere il più rapidi possibile per evitare assembramenti poi ovviamente per i festeggiamenti vi invito a farli solo una volta usciti dal portale di ingresso per una questione anche qui di sicurezza ma anche di rispetto dell'istituzione perché in altre aule ci sono in contemporanei esami e altre attività didattiche grazie e a fra poco grazie 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 a tutti. 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 di tutte le condizioni attenuanti della coda del Covid e delle difficoltà oggettive che alcuni di voi e quindi ci complimentiamo per la qualità generale del lavoro. Detto questo, noi oggi chiudete un percorso e ci auguriamo che è solo il punto, non è solo un arrivo ma è un punto di partenza per quello che vorrete fare e volete essere nella vita. Quindi speriamo che questi tre anni, qualcuno un po' di più, noi abbiamo dato un imprinting e speriamo che questo poi vi aiuti nella vita dopo questo primo traguardo di cui ci complimentiamo con tutta la Commissione, si complimenta con voi e con i vostri genitori. Io adesso procederò alla proclamazione, la cortesia che vi chiedo, anzi due cortesie. Intanto chiederei non un applauso ogni singola proclamazione ma un applauso collettivo finale intanto perché così è un applauso più importante ma poi perché l'applauso del primo potrebbe coprire poi la proclamazione del secondo e non è una cosa bellissima. Dopodiché poi vi chiederei la cortesia di una volta ottemperate, voi avete già firmato quindi dovete solo ritirare il diploma, quindi che è già pronto con la votazione di ritirare il diploma e poi di lasciare velocemente il posto in modo da consentire la proclamazione dei vostri colleghi con le stesse modalità con cui state facendo voi. Detto questo procedo con la formula di proclamazione. In nome del Rettore e per delega del Rettore in nome della Repubblica Italiana dichiariamo dottori in disegno industriale triennale Carvutto Ilenia con la votazione di 107 su 110 De Cosmo Brunella con la votazione di 108 su 110 La Macchia Miriam con la votazione di 109 su 110 Vecchi Serena con la votazione di 94 su 110 Galasso con la votazione di 102 su 110 Dentamaro Giorgia con la votazione di 95 su 110 Quindi auguri e complimenti a tutti. Quindi vi proclamo ufficialmente dottori in disegno industriale. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io procedo alla proclamazione dei voti che avete conseguito, sono molto positivi le valutazioni, gli incrementi sono molto alti, quindi è sintomo del fatto che la Commissione ha apprezzato il lavoro che avete fatto. Vado in ordine. Passarelli Maria Elena consegue la votazione di 109 su 110. Molinini Emanuela la votazione di 110 su 110 con l'ode. Pedaso Domenico con la votazione di 109 su 110. A Sollini Monica con la votazione di 110 su 110 con l'ode. Turturro Samuele con la votazione di 110 con la votazione di 102 su 110. Possiamo fare un applauso. applauso. Quindi, e poi prima di procedere alla consegna elaborati, io vorrei dire due parole di ringraziamento per i ragazzi che in questi mesi si sono prodigati e hanno fatto un lavoro. Devo dire noi che siamo stati, abbiamo seguiti quasi quotidianamente, anche a volte in condizioni di difficoltà legate alla coda di questa pandemia. Devo dire che, posso dire anche il nome del professor Pietro Santo che vedo che annuisce, possiamo dire adesso, solo adesso, che hanno lavorato molto bene in maniera quantitativamente e qualitativamente veramente apprezzabile. Quindi, veramente da parte mia, del professor Pietro Santo, i complimenti sinceri per il lavoro che avete fatto. E quindi, adesso, questo è un primo passo che non è, lo dico ai genitori, un arrivo, un traguardo, ma è il punto di partenza su cui poi loro devono ricalibrarsi rispetto a quello che vorranno fare dopo la laurea. E quindi, per il nome della Repubblica italiana e per delega del magnifico rettore Francesco Copertino, vi dichiaro dottori in disegno industriale. Auguri. Applausi. 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 Adesso, impianiamo una po' senza microfono. Senza microfono. Monica Alzolini, complimenti. Applausi. Debora Mariani, complimenti. Applausi. E Manuela Polinini, complimenti. Domenico Medato, complimenti. Domenico, Maria Elena Passarelli, complimenti. Maria Elena, Giulia Battista, complimenti. E Anna Martina. Camuolo Tuturra, complimenti anche a Camuolo. Complimenti a tutti, bravissimi. Applausi. Possiamo dare uno sfogo ai festeggiamenti. Fuori però, grazie a tutti. Preg수. Tramente, poi si f如 arco. Embraciamo via. Grazie a tutti.